Ok, funziona tutto. Il ban è più totale. Vabbè, il rischio al sale della vita. Ciao, Charlie. Dov'è la mia AIGOS? Non lo so. È quella tua. Ma c'è anche Charlie Boon, non avevo capito. Sì, c'è anche Charlie Boon. C'è anche Andrea 1988, c'è un po' di gente. Ok, ok. Eccolo qua, Andrea. Facciamo subito entrare, Andrea 1988. Eccolo qua. Ciao, Patato, come stai? Sì, buonasera. Buonasera, caro. Come lava, Andrea? Tutto bene? Sei pronto al rischio di oggi? Sì, la va bene. Mi stava trollando Cyber prima. Avevo lasciato aperto Discord e mi mandava il suono di una porta che bussava. Mi stava trollando malissimo. Ah, Cyber Rage. Tutti lo conoscono Cyber Rage. Bello, bello. E vabbè, oggi lo sai benissimo che la live è molto rischiosa. Quindi spero che anche tu ti prendi la responsabilità. Aspetta quello di Immortale Don Ambrosio mentre beve. Vabbè, ho capito. Ciao. Salve. Don, salve. Come sta? Ciao a tutti. Molto bene, molto bene. Ottimo. Come la va? Ma stasera andrà bene. Andrà bene la live. Non ci saranno banna. No, no. Mi auguro, mi auguro di no. Facciamo cosa? Importante. Però una regola. Una regola. Bisogna dare, secondo me, non più di due minuti di intervento a persona e ci salviamo da tanti problemi, secondo me. Bravo. Don, no, non so che questa è utopia, questo è utopismo. Spegni il microfono, dopo due minuti spegni il microfono, questa è la regola. Giusto, bravo. E infatti sarà questo il modus operandi di questa live. L'ho inventato stamattina quando mi sono svegliato. Immagino, immagino. Sì, sì, sì. No, no, questo caso è il modus operandi di questa live. Due minuti a testa per dare le risposte perché sennò si crea un... Ma cronometrati. Cronometrati. Li cronometro io personalmente. Al millisecondo. Al millisecondo, chi continua a parlare dopo il secondo minuto verrà ucciso. Diretto così proprio. Eliminazione. Verrà ucciso. E diamo benvenuto a Maria Sofia! Buonasera, grazie mille per avermi invitata. Buonasera, buonasera. Di nuovo, prego. Buonasera. Di nuovo prego. Ciao Maria Sofia, come la va? Ma insomma, oggi è stata una bellissima giornata, nonostante la fatica di tutti i mesi dietro. Ecco, perché sono stata pure inattiva in quest'ultimo periodo, tra l'altro. Ho portato dei bei fiori a un mio amico, che era abbastanza triste, e quindi gli ho un po' ravvivato e migliorato la giornata. Erano due minuti di vita di vento, giusto? O sbaglio? Come? Ah, ok. Non ho sentito. No, Maria Sofia, è tutto sotto controllo, stiamo incillando. No, non ho proprio sentito quello che ha detto, non che la battuta... No, è che ci stanno due minuti a testa per parlare, a quanto pare... No, 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 ma adesso no, ma dopo... Ah, no, 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 adesso no, possiamo parlare quanto vogliamo. Tranquilla, Maria Sofia, è tutto sotto controllo. L'importante è sorridere e io sorrido, perché... L'importante è partecipare. È partecipare, sempre, sempre. Stiamo aspettando le altre due ospiti, c'è la Charlie Moon, non so se tu Maria Sofia la conosci. Sì, Charlie non utilizza però prettamente i pronomi femminili, quindi tendiamo magari a preferire il maschile per chiamarlo, oppure il neutro. Comunque sì, abbiamo collaborato molte volte insieme ed è anche abbastanza ironico che la sua presentazione sia uscita fuori così, perché da quello che so stasera parleremo proprio di pronomi e in generale di comunità LGBT, giusto? Certo, 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 volevo sapere se la conoscevi, semplicemente. Sì, sì, lo conosco, lo conosco. Lo conoscevi, scusami, sbaglierò e mi prendo la responsabilità di questo errore, purtroppo. No, 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 non mi scrivete, fingiti morto! Ciao, Charlie, perdona, mi sento degli imbezzetti. No, no, figurati, io come sentivo, perché sono entrato, che Maria Sofia stava già introducendo, molto, utilizzo tutti i pronomi, quindi comunque va bene tutto, nel senso che preferisco il neutro, ma in italiano non esiste, quindi ci facciamo andare bene quello che c'è. Diciamo, il maschile è più simile, quindi, in teoria. Più che altro, il maschile sembra più a volte, ok, sto capendo e quindi ti do del maschile perché ho capito il discorso e quindi te lo dimostro col maschile, però, insomma... Ok, io mi impegnerò al massimo a capire, vabbè, adesso comunque entreremo nel discorso. Siamo anche benvenuta a Jessica, eccola qua. Ciao! Ciao, amore. Ciao, carissima. Grazie, ragazze. Come stai? Bene, bene, buonasera. Non c'è male, dai. Bene, bene, allora, vi presento i nostri ospiti, abbiamo Pietro Storti, che non so se lo conoscete questo movimento. Sì, sì, ho avuto il piacere, per fortuna. Ah, ok, ti è simpatico, Pietro. Moltissimo. Forza, Andre, fai. Viene tra le stive knocking della vevole, mente cristiana. Poi abbiamo Andrea 1988, che è stata una piccola diatriba tra Maria Sofia e... Ma immagini, credo mi conosca perché siamo su TikTok entrambi da un po', quindi... Anzi, però la verità, lei è stata la seconda che io ho trovato su TikTok appena installato. Davvero? Maria Sofia? No, Jessica, mi è comparso un suo video, il secondo video che ho visto è stato il suo, sì. Quindi la conosco dagli albori, praticamente. Bello, bello. Poi abbiamo Don Ambrogio, che... Per esempio. Per darci la sua opinione, che è sempre molto richiesta, perché comunque è un'opinione sempre richiesta, in generale, da qualunque persona. Poi qua a fianco a me abbiamo Lele, che mi fa la compagnia in questo ban. Ciao. Abbiamo Jessica, che io non conosco molto bene perché non l'ho mai avuta ospite in live, quindi ho avuta, ho avuta, dimmi tu come posso chiamarti, perdonami, se vuoi presentarti. Sono Jessica, faccio attivismo sui miei social, sono una ragazza. E poi abbiamo Charlie, se ti vuoi presentare, anche tu è la prima volta che sei ospite in questo canale. Sì, ragazzi, per favore. Sono una creator, mi occupo di... adesso faccio l'introduzione sui profili social, racconto un po' la mia vita e le mie esperienze. E come ho letto in chat, molti mi conoscono per quella che giocava a Minecraft, però non gioco più a Minecraft. Ok, io ti seguivo tantissimo, eri una mia crush. Ho sentito prima, mentre aspettavo di entrare in live, ho onorato. Ti amavo. Tra l'altro una volta ti ho pure fermato al Games Week. Ti avevo fatto... Ok, il 2016, quindi, più o meno. Sì, sì, sì. Quando avevo ancora i capelli lunghi, ricci, colorati, belli, belli. E quindi è un piacere averti qui. E poi abbiamo Maria Sofia Pia, che dico sempre anche Pia, perché credo si dica anche Pia. Volendo. Volendo, è il nome completo. E che preferisci? Pia o no? Va bene anche Maria Sofia, semplicemente. Ok, ok. Che è un'attivista, possiamo chiamarti così, per i diritti LGBT, insomma tutto quello che riguarda anche il mondo della... Come posso dire? Beh, si potrebbe parlare di femminismo, si potrebbe parlare di lotta contro il razzismo, si potrebbe parlare... Intersezionalità. Intersezionalità. Certo. Tutte le cose che vogliono cercare di promuovere un concetto di inclusività e di uguaglianza, soprattutto facendo parlare delle persone che appartengono a diverse comunità, in dei confronti con me. Ed è anche bello, altresì, per l'appunto avere modo di dialogare con chi non la pensa come me. Ed ecco perché sono in questa live stasera, supponendo che ci saranno sicuramente degli uniti di vista discordanti. Manca solo che facciano entrare ambere e siamo proprio a posto di... Ma è normale, ognuno ha le loro opinioni ed è proprio questa live che servirà anche per metterle a confronto. Allora, qualcuno vuole dire... qualcuno, qualcuna vuole dire qualcosa prima che inizio a lanciare proprio paglia nel fuoco? Sì, assolutamente. Mi piacerebbe un po' partire da un presupposto. Visto che tu mi hai presentato questa live come comunque una specie di incontro all'insegna del pacifismo e del rispetto reciproco, io vorrei che questo fosse quasi da monito per evitare che quello che è successo la scorsa volta si ripresenti o addirittura per correggere i suoi errori e magari dare delle scuse perché... Beh, diciamo che dal dibattito originale si era usciti fuori con degli argomenti ad personam oppure ad hominem molto molto bassi. Cioè mi è stato detto che io sono diventata famosa solamente grazie al collegio e invece c'erano delle persone che c'erano riuscite da sole a ottenere questa fama nonostante io da quando ho 14 anni che faccio divulgazione sui social e lavoro davvero tanto, mi è stato detto che ho magne di onnipotenza, mi è stato detto che la mia strategia comunicativa è mediocre e tutto questo partendo però dal principio per cui la persona che me lo stava dicendo quale Andrea mi volesse bene. Quindi ecco, una roba del genere indipendentemente dal fatto che sia la sua opinione vorrei che si ripresentasse più perché non c'entra proprio quel discorso da a sviarne il punto. Quindi parliamo solo di argomenti e non degli interlocutori perché non ha senso. Andrea vuoi dare una risposta? No, no, sono nello stato di nirvana quindi non... Ah ma una scusa però non me la dai per questo? Te la sei proprio legata al dito eh. Non me la sono legata al dito Andrea, è una questione di correttezza, non mi importa più di tanto. Maria Sofia, Maria Sofia per favore, per favore dai facciamo anche un po' gli adulti, cioè non c'è, non è necessario Don Ambrogio non è contaduto il fatto che una persona tra cui vista la sua età. Non bisogna star lì a fare i bambini, dai Maria Sofia, sei un po' grande. Don Ambrogio ti prego non scherzare sulla mia età perché io lo so che ho detto questa battuta. No, non sto scherzando, non sto scherzando dai. Semplicemente perché sai che avrà una certa rilevanza, nel senso che io sono più piccola di te e quindi puoi scherzare su questo fatto. Però parliamoci chiaramente, l'unico comportamento non maturo è il fatto che una persona adulta invece di parlare dell'argomento di cui si stava trattando preferisce spostare il focus, non insultando, ma proprio esprimendo dei commenti sull'interlocutore, che non c'entrano niente. Quindi è questa la vera cosa non matura. Per cui ti prego, rimangiati quello che hai detto perché non c'entra nulla. Io credo che il senso del discorso, più che instaurare delle diatribe interne, sia tenere la discussione su quello che è, ovvero una discussione pacifica su questo, senza mettere in mezzo quello che sono poi i diatribe interne o antipatie che possono essere state scaturite da cose in passato. E quindi appoggio la cosa dell'argomento a Dominem, il cosiddetto del non attacchiamo le persone in questa live. Lo dico non tanto alle persone che sono qui, quanto alle persone che sono in chat, che è possibile, mi rendo conto, gestire tutte quelle persone, ma io ci provo, insomma, se volete attaccare qualcosa attaccate l'argomentazione e non la persona perché fallate. Ti dirò di più, ho fatto un TikTok dove ho detto che è scandaloso che l'abbiano bloccata di nuovo completamente a caso solo perché esprime delle opinioni che possono non piacere. Quindi ho detto anche questo, che purché le opinioni di qualcuno possono anche non piacere, non essere d'accordo, penso che ognuno debba essere libero sempre ad esprimere ciò che pensa senza censura. E quindi ho fatto anche un TikTok dove ti ho difeso e ho detto che è scandaloso che ti abbiano bloccato nuovamente il profilo. Ti ringrazio molto, spero che in questa live troverai anche la voglia di pormi le tue scuse rispetto a quello che è successo perché lo trovo abbastanza non condivisibile. Però, senza dilungarci troppo, Grimbaud voleva fare delle domande, giusto? Oppure possiamo anche continuare a parlare di questo? Nel senso, purtroppo già stiamo partendo con un grosso attrito da risolvere, a me questa cosa, cioè, mi dispiace. Pietro, cosa ne pensi? Ma io in realtà stai dicendo che non è che l'abbia seguita molto, infatti stavo cercando di capire cosa... No, perché nella scorsa live, insomma, si era acceso un piccolo dibattito tra Maria Sofia e Andrea, e quindi, insomma, non si è mai risolto in realtà. Piccolo, mica, è andata avanti 40 anni quella cosa, piccolo, è stata una persecuzione quella cosa là. Che ci vogliamo fare? È stata una persecuzione che anche io ho subito, perché tantissime persone che seguivano te poi hanno scritto delle cose poco carine nei miei confronti, forse anche rifacendosi. Sto speculando e non affermando nulla all'esempio che hai dato tu, cioè quello di prendersela con la persona. E ma anche a me, sai quanti messaggi mi hanno mandato, video, meme, voglia. Eh sì, però sai com'è, è un po' diverso quando io, semplicemente perché esprimo un'opinione esattamente come lo fai tu, vengo chiamata arrogante solo per la mia età, come magari poteva star cercando di fare anche Don Ambrozio, dico, innescare la stessa dinamica, e tu invece perché sei più grande di me, nonostante dica le cose con la stessa convinzione, sei invece una persona rispettabile, molto intelligente, cosa che non nego che tu sia, però è un po' il doppio standard che mi ha fatto storcere il naso e quindi vorrei, magari questo è il primo invito che posso mandare alle persone che stanno seguendo questa live e poi la commenteranno nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, che ciò non riaccadesse perché è veramente infondato. No, no, per l'amor del cielo, che sia una live di argomentazione che finisca come iniziata, senza ripercussioni di nessun tipo, per l'amor di Dio. Basta di dica, pace, pace. Vabbè, è la base della democrazia, conversazioni senza ripercussioni, non è che voglio dire... Eh, però quando magari... Ah, scusami, non avevo capito che fosse il tuo turno, che hai detto ti ho proprio coperto, scusa. No, no, ho detto è la base della democrazia, non facciamo gli squadristi. Sì, sì, per carità, però io credo che certe cose non debbano essere dette con troppa leggerezza, ma che portino anche a delle conseguenze. Nel mio caso, ripeto, delle scuse mi sembrano quantomeno dovute per quello che è successo. Però... Andrea? Libero. Vabbè. Don Ambrano? No, voglio dire, cioè, se avete a morte gli uni con gli altri, non lo so, ma le scuse fatte per privatamente, non in questa live. In questa live parliamo di... Parliamo di Arluia. Vabbè, Don Ambrogio, non è così semplice, soprattutto perché ho spiegato le ragioni per cui io voglio... Sì, Maria Sofia, però non è che devi avere la copertura, la copertura mediatica per avere le scuse in Mondovisione, te le farà privatamente come fanno tutti i cristiani. No, assolutamente no, soprattutto perché, diciamo, l'azione che è stata compiuta e l'azione per cui io pretenderei delle scuse, ed è anche giusto che io le pretenda, è stata manifestata pubblicamente, che poi è una cosa che porta a una serie di conseguenze, di responsabilità, come parlavo prima, e soprattutto, come dicevo prima, e soprattutto sempre, come stavo sostenendo, c'è pure il discorso che se queste cose non vengono messe in chiaro all'inizio, si potrebbero replicare le stesse dinamiche, quindi altro odio, altra incomprensione, che non fa bene né a me né ad Andrea, quindi io sto facendo una cosa per entrambi. Per cui no, il tuo punto del fatevi le scuse in privato è abbastanza, secondo me, non utile per la discussione. No, però vabbè, comunque chiudiamo questa parentesi, insomma, anche perché mi sembra non ci sia un punto di arrivo e andremo avanti così all'infinito, perché così è la situazione. Eh, sfortuna. Allora, volevo partire con la prima domanda, una domanda molto punzecchiante. Eh, volevo chiedere a Don Ambrogio direttamente, ovviamente poi avremo anche la risposta eh, degli ospiti, eh, in particolare Jessica, Charlie e Maria Sofia, mi interesserebbe la loro risposta. Eh, Don Ambrogio, qual è la visione della Chiesa sulla comunità LGBT? Allora, eh, la Chiesa guarda le persone, non è che si fa, diciamo, influenzare da queste etichette che io personalmente trovo anche un po' non positive, ecco, in questo senso, guardiamo le persone, eh, sono le persone da aver cura, da essere portatrici dell'amore e di Dio che noi manifestiamo con la nostra vita per quanto possibile, ecco, poi nella diversità di ognuno. Ok. Così detto proprio semplice. Jessica, vuoi, ti avevo visto un attimo sbuffare, vuoi aggiungere qualcosa? No, non ho sbuffato. No, forse sono io che ho la sbuffite. No, non ho sbuffato. Cioè, per cui vuoi aggiungere qualcosa? La religione, in realtà, non ci sarebbero problemi, ecco, con la religione, con il tutto matto, ecco, quindi. Ok, ma che rapporto hai con la religione, personalmente? Io, personalmente, tendo, ecco, a non esprimermi troppo sulla religione, nel senso, è una cosa, come la vedo io, molto privata. Ognuno la sperimenta come meglio crede. e so che ci sono moltissime persone appartenenti alla comunità LGBT che sono credenti e questa è una cosa che, appunto, va rispettata. Io, personalmente, ho una visione molto personale di una cosa, quindi non ne parlo molto apertamente del mio credito, ecco. Ok. Però non ci vedo nulla di, insomma, se le persone hanno la mentalità giusta, non c'è assolutamente nessun tipo di conflitto tra religione e comunità LGBT. Sai come si suol dire, non è Dio che mi spaventa, ma il suo fan club. Frase molto forte. Non è la religione a fare del male, ma le persone che credono potenzialmente possono farlo. Dipende, ci sono estremisti, come ci sono poi estremisti ovunque, come ci sono quelli più tranquilli, sai. Non solo il cristianesimo. In un pool di 2 miliardi e 100 milioni, penso siano i cristiani del mondo, più o meno, una cosa simile, comunque estremisti è normale che statisticamente siano tanti. Ok, tu Charlie, qual è la tua visione? Io non sono più una persona credente, però sono molto dell'idea che appunto la religione sia una cosa molto personale, non ho una visione, come magari possono avere altre persone che conosco, molto rigida del fatto che se sei gay, o comunque se fai parte della comunità LGBTQIA+, non puoi essere cristiano perché non è vero, soltanto perché dicono, queste persone affermano, siccome la Bibbia in alcuni passi dice cose omofobe o comunque cose che non sposano questo stile di vita, allora tu non puoi supportare quella religione. Ma in realtà è una cosa talmente personale e per me, o almeno per come mi è stata insegnata dalla mia famiglia, che è cristiana, la religione è amore, è amore verso il prossimo, è amore verso Dio e questo significa che una persona che fa parte della comunità è la LGBTQIA+, quindi che professa l'amore libero può benissimo essere religiosa e nessuno potrebbe dire niente a riguardo. Un attimo, una piccola parentesi perché ho visto Don Ambrogio fare una faccia abbastanza sorpresa quando ha detto... No, sì, no, la Bibbia non è omofoba, ecco. No, no, però ci sono dei passaggi che, insomma... No, è vero che i cristiani, cioè che anche un uomo sessuale può essere cristiano e può essere anche santo, non c'è nessuna limitazione in questo, perché comunque la nostra responsabilità morale dipende dalle nostre scelte, ecco, questo sia chiaro. Ok, Maria Sofia invece, qual è la tua visione sempre sulla discorso chiesa? Beh, che c'è un canale molto interessante di un ragazzo laureato in filosofia e anche in teologia, vabbè è andato a Oxford, che si chiama Cosmic Sceptic, che parla molto bene della religione da un sacco di punti di vista, quello antropologico, quello più magari ontologico, proprio rifacendosi a degli studi che riguardano la sua materia, la sua disciplina di indirizzo, diciamo così, e apre molto la mente, cerca di computare i maggiori argomenti sull'esistenza di Dio e cerca però anche di farlo riferendosi alla dottrina cristiano-cattolica. Io, essendo una cosa molto grande, ci vogliono tanti studi, bisogna conoscere tanta storia, bisogna immedesimarsi in tantissime situazioni diverse per capire davvero la religione, sia da un punto di vista personale e sia proprio da un punto di vista più, non lo so, riguardante la dottrina in sé. non ce la faccio a pronunciarmi con un giudizio vero e proprio, però consiglio questo canale perché mi ha aperto molto la mente e può dare degli spunti di riflessione interessanti, per cui è un po' neutrale, un po' ambigua da questo punto di vista io. Ok. Pietro, Andrea, Don Ambrosio, avete qualcosa da aggiungere? La mia opinione la sai tranquillamente qual è, io non sono antireligioso, sono semplicemente ateo perché ritengo che non esistano prove a sostegno della veridicità dell'esistenza di una qualche sorte di divinità, ma io non sono antireligioso, anzi. Ok, Don Ambrosio, tu rispondi a qualcosa, non stiamo parlando riguardo alla religione, sulle serate o no, ma sempre sul collegamento che ho proposto prima. Nel senso che, appunto, come volevo spiegare prima, un conto è la nostra essenza, quello che siamo, quello che, diciamo, usciamo dalla nostra vita, ecco, che non dipende dai nostri scelte, evidentemente, ecco. Un altro conto sono le nostre scelte, sono quelle che sono molto importanti e molto rilevanti nella costruzione poi della nostra vita, nel senso che io adesso ho 31 anni, ma sono frutto delle scelte che ho fatto già da quando ero più giovane, ecco, nel senso che sono qui adesso è perché ho fatto un certo tipo di scelte, per cui sono le nostre scelte che facciamo libere e consapevoli, usando possibilmente la ragione e non facendo stupidaggini, che ci portano a vivere al meglio la nostra vita. Questo vale per tutti, per non essere eterosessuale o omosessuale. Ma secondo te, Don Ambrosio, perché c'è questa credenza, che magari è anche reale, in realtà, che, insomma, in generale, la religione va sempre un po' contro questo tipo di cosa. Sì, penso per il fatto, come si può dire, cioè di rapporti omosessuali, ok, in questo senso qua. Non sono moralmente accettabili dalla fede cristiana i rapporti omosessuali, ecco, ma così come anche una vita, per esempio, da eterosessuale, una vita non casta, ecco, non attenta a questo tipo di responsabilità e di attenzione nella sessualità. Però ho una domanda in questo senso, un rapporto eterosessuale, lasciando perdere la vita non casta, un rapporto eterosessuale è visto bene dalla fede cristiana? Sì, se è dentro, attenzione, se è nell'unione matrimoniale con la possibile apertura alla vita. Ok, quindi, eventualmente, il rapporto omosessuale non è considerato appropriato secondo la religione cristiana perché non c'è un'apertura alla vita e non c'è, in questo caso, in Italia, almeno il matrimonio, perché in Italia non ci si può sposare. Sì, allora, il matrimonio, ma anche se in uno stato c'è il matrimonio, diciamo, omosessuale, è una definizione molto artificiosa, perché di fatto il matrimonio è un istituto che è nato dall'uomo, non è nato dal cristianesimo, esisteva anche prima. Il matrimonio è stato non definito, è proprio, sì, ma un contratto che è antropologico, che è stato portato avanti della storia tra un uomo e una donna, per la continuità della specie. Beh, sì, però è anche vero che la continuità della specie, c'è anche l'evoluzione della specie. Se un tempo i bisogni primari erano quelli di continuare la specie e di proteggere la specie, adesso non sono più quelli i bisogni, sono cambiati e di conseguenza cambiano anche un po' le regole del mondo in cui viviamo. Ok, però dobbiamo, cioè, dobbiamo, non dobbiamo far niente, dobbiamo morire, se proprio è l'unica cosa che siamo costretti a fare, volenti o nolenti, ma in ogni caso, per portare avanti la specie, abbiamo questo metodo qua, ecco, non ne conosciamo altri. Beh, non è vero, la scienza sta studiando dei sistemi molto interessanti per mettere in cinta anche gli uomini, e io non vedo che sarà veramente affascinante, perché lei lo sa, anche lo stesso, io ho la mente da supercriminale, quindi non vedo l'ora di vedere cose strane prodotte dalla scienza. Anche se non si mette in cinta gli uomini, tipo? Si sta studiando un sistema per sfruttare cellulestamilani, medollo osseo, per creare una sorta di spermatozoo artificiale, ovuli artificiale, per riuscire a creare la vita, diciamo, anche da quello che potrebbe essere una sorta di utero maschile, che questo è stato fatto apposta come esperimento, diciamo, perché nel futuro si sta pensando che, per le persone transessuali che desiderano avere figli, siccome comunque l'utero in affitto è, diciamo, un metodo alternativo, si possa cercare di dare dei figli anche a loro, non passando a quei sistemi più convenzionali, quelli biologici, diciamo, e secondo me è una figata incredibile questa, non vedo l'ora di farlo se si riuscirà a arrivare da qualche parte. Ok. Maria Sofia? Stavo provando anche con le donne, lo stesso metodo era stato un tentativo. No, ma il fatto è che confrontarci su questi argomenti può essere utile fino a un certo punto se non c'è la vicendevole volontà di cambiare idea, se ci viene provato che quello che diciamo è inesatto, che è un altro modo anche per chiedere a Don Ambrogio, per esempio. Se noi dovessimo dimostrarti che determinate considerazioni che fai sull'omosessualità o su altri argomenti non sono esattamente attinenti alla realtà, come se tu dovessi dimostrarci il contrario che hai ragione, saresti disposto a cambiare idea come noi saremmo disposti a cambiare idea? Da parte mia, sì. Ok, no, se mi vedevi perplessa era solo per questo, perché stavo un attimo rimuginando su questo punto che secondo me è fondamentale anche solamente per poter parlare insieme. Detto questo, per quale motivo un atto sessuale tra due persone omosessuali sarebbe impuro o in generale anche una vita non casta tra due persone eterosessuali è mal vista sia dalla Chiesa sia quindi anche da te, di conseguenza? Allora, non siamo fuori argomento ma ti rispondo velocemente. L'unione sessuale o la vita sessuale, la sessualità in generale, ritengo che sia una delle cose più preziose che abbiamo, ok? E quindi non va venduta, usata, sfruttata, magari solo per me stesso oppure con il primo che passa per strada e questo spero che sia chiaro, ma allo stesso tempo va custodita nella relazione più fedele, più forte, più vitale che ci sia, più anche custodita, più garantita, quella matrimoniale. Ma il matrimonio non esiste in natura, Don? Esiste in natura invece, cioè nel senso, come ti dicevo prima, antropologicamente, non è che ci siamo inventati il matrimonio. Esiste in natura il matrimonio? Ma no, gli animali non si spavano, che io sappia. Esiste nella natura umana, ok? Sì, è più che altro un prodotto della nostra intelligente civilizzazione, perché in realtà una volta ci si accoppiava alla cazzo di cane e creavamo tribù. Sì, non proprio, non proprio, perché se tu ti ingroppavi, se tu ti ingroppavi la mia donna, io ti ammazzavo le capre. Ma perché? C'è un motivo. Perché è nata la monogamia? La monogamia è nata come sistema per garantire ai maschi più forti il controllo sulle femmine, perché i maschi più forti andavano a cacciare fuori e c'era il rischio che i maschi beta si accoppiassero con le loro donne. Quindi scientificamente si pensa che l'idea sia stata che l'uomo abbia creato una sorta di contratto per far sì che una donna appartenesse a un uomo per non farla predare poi da altri uomini. Quindi anche quella... Ma anche per tutelare i figli e per tutelare la donna stessa. Questo è anche il matrimonio. Ma la donna può scegliere, la donna ad oggi, ma poteva farlo anche all'epoca se avesse voluto scegliere di avere anche più partner sessuali, se voleva. Quando ancora una religione non era stata istituita, di conseguenza non c'erano regole imposte da un dio o comunque da... Sì, ma tu dire al marito se gli va bene una cosa del genere non è una regola umana. Nel senso che ci si può mettere d'accordo se al marito va bene. Ma stiamo parlando del paleolitico, cioè stiamo parlando di quando ancora non esiste la scrittura. No, no, però per fare un esempio di regole non scritte, quindi di cose che non sono in realtà insite nell'uomo, come si diceva prima, ma sono nate da una successione, un'evoluzione di regole che poi sono diventate però, si sono unite a noi in maniera diversa, perché ad esempio io sono una persona monogama, non riuscirei mai ad avere altri partner, così come non riuscirei mai ad accettare che la mia ragazza abbia altri partner, però mi rendo conto che è completamente un costrutto sociale questo. Sì, ne abbiamo parlato anche a te letto qualche mese fa, però indipendentemente da questo io non credo che la nostra autodeterminazione come esseri umani debba essere invalidata e quindi resa meno seria in base a quello che fanno altre specie animali, noi dobbiamo pensare a noi, quindi forse paradossalmente da questo punto di vista posso essere più d'accordo con il Don piuttosto che con Andrea, però il punto è perché noi in quanto esseri umani dobbiamo porci queste limitazioni se moralmente parlando non portano alcune conseguenze negative, mi spiego meglio, io avendo un rapporto sessuale con il primo che capita o con la prima che capita e se questa cosa viene fatta nel reciproco rispetto, perché comunque sia entrambi lo vogliamo e quindi c'è il consenso, non c'è alcuna forma di violenza, per quale motivo questo dovrebbe essere negativo per la mia persona o dovrebbe togliermi del valore magari? Questo sono d'accordo. Per fare questo tipo di rapporto cosa devi fare però? Spogliarti? Sì ok, no no, per te, ok, nel senso tu vuoi rimanere incinta o no? Beh, usi le precauzioni. Le precauzioni, sì ok, quindi andiamo ad intervenire artificialmente ancora anche in questo tipo di rapporto, perché? Perché io non voglio fare un rapporto ma senza la possibilità, la responsabilità di per esempio di poter generare vita. Non so che è una cosa, quindi è proprio l'intervento artificiale che è una cosa sbagliata. Sì anche. Attenzione, parliamo del termine sbagliato. Stiamo dicendo di non dobbiamo vivere con superficialità questa cosa che è così importante, così preziosa, cioè non è che tu stai, ho un pacchetto di patatine e la condivido con te, ok, non è importante, ma questa è una cosa preziosissima che abbiamo. Però è preziosa per lei giustamente come per un'altra persona può essere meno preziosa. Mi sto immaginando, ma se uno non gliene frega niente di valutare bene questa cosa che ha, che tutti noi abbiamo, per fortuna, questo ci deve pensare è la sua coscienza. No, ad esempio le patatine le mie patatine non le condividerei mai, mentre la darei a molte persone, insomma, quindi penso sia semplicemente… Ecco, tu dici le patatine sono molto più importanti della mia sessualità. Sì, le mie patatine sono molto più importanti. Ci devi pensare tu in coscienza, ecco. Però, aspetta, una cosa, posso fare una domanda? Per quale motivo diamo un valore intrinseco alle azioni? Quando queste azioni non sono dannose per le persone che le compiono o per le persone che le ricevono? No, intendo. È come se, diciamo, la sessualità avesse un valore proprio nella tua visione, quindi la sessualità avesse un peso indipendente dalla persona che la esercita e ci sono invece anche tu nella tua visione ammetti che ci sono delle visioni più relative, come per esempio il modo in cui io posso considerare delle patatine, ma la sessualità, come tutte le altre cose, non è forse un'espressione del soggetto, quindi essendo una mia espressione, un mio modo di manifestare ciò che sono al mondo reale, non dovrei dargli io il significato, perché se lo devo avere a prescindere a priori? Posso decidere io quanto vale la mia sessualità, nel senso di a chi la voglio concedere e con chi la voglio sperimentare, sarebbe anche meglio utilizzare questi termini, e non capisco nemmeno perché ciò mi toglierebbe del valore come persona poi, mi renderebbe moralmente deprecabile. No, no, attenzione, tu sei libera, è responsabile ovviamente delle tue azioni, come ti dicevo prima, ci devi pensare nella tua coscienza, però attenzione, la sessualità non è una cosa propriamente solo nostra, perché la sessualità ci fa vivere una relazione con un'altra persona, per cui quando c'è il ballo è un'altra persona, non puoi più dire che è solo una mia scelta, solo un mio modo di esprimermi, no, è una relazione che vivi con un'altra persona. Donne, il consenso esiste proprio per questo, cioè le persone si accordano che siano due, tre, quattro ad avere rapporti dicendo sei d'accordo, vuoi fare questa cosa, proprio per questo, quindi in realtà non si sta oggettificando l'altro, se questa prospettiva porta automaticamente a vedere gli altri soggetti come un modo per sfogare le proprie pulsioni, secondo me si sta parando completamente una palla che non dovrebbe proprio starci nel campo, perché anche le altre persone sono d'accordo a farlo con te, quindi non stiamo utilizzando nessuno, stiamo facendo una cosa... Voi state discutendo di natura umana, cioè è nella natura umana imporre il proprio pensiero agli altri, così com'è nella natura umana cercare di trasformare il mondo in quello che noi vorremmo che fosse, così com'è anche giudicare le azioni altrui in base a quelli che sono i nostri criteri. Il motivo per cui questa discussione non arriverà da nessuna parte è perché è nell'uomo, è proprio nella natura cercare di trasformare ciò che esiste in base a quello che è il proprio canone ideale di perfezione, incluso influenzare gli altri, nelle azioni, nei pensieri, nelle cose che fanno, tutt'al più giudicandoli per farli sentire in qualche modo disagio, per farli capire che loro stanno giudicando perché il tuo modo di pensare è comunque migliore perché è il tuo modo di pensare e questo è il motivo per cui la gente esprime pensieri e giudizi su quello che fanno gli altri. Il dono ha la sua idea, il dono comunque ha la sua visione del mondo, non è che te la sta imponendo, non fa male a nessuno, anche se la pensa così. Non ho detto che il dono la sta imponendo, ho detto solamente che... No, io dicevo proprio quello che dici tu, ognuno ha la sua visione del mondo e te la tiene, se per il dono la sessualità è quella, ovviamente, tanto dicano che non farà nessuno. Però il problema è che come il consenso riesce a far comunicare due persone che appunto vogliono intraprendere un rapporto sessuale insieme, mettendole d'accordo e rendendo poi la cosa lecita, diciamo il confronto dovrebbe fare la stessa cosa e l'imposizione è proprio annullata poi da questo tipo di, si potrebbe dire, invenzione umana, che sarebbe il parlare tutti insieme per arrivare a un punto comune, tant'è che il dono stesso ha detto che se qualcuno dovesse provargli che quello che dice non è corretto con dei dati logici, scientifici che vanno oltre quello che può essere il soggettivo desiderio di imporsi sull'altro, cambierebbe idea. E quindi a questo proposito vorrei anche dire che secondo me è una visione un po' troppo pessimistica affermare che non arriverete mai a un punto di incontro perché questa è la visione umana. No, ci sono dei fatti, ci sono delle cose incontrovertibili. Ti faccio un esempio, perché quello che dici fondamentalmente posso anche condividolo, ma ti faccio un esempio. L'emotività non la si sconfiggerà quasi mai con la logica, questo purtroppo è nella natura umana e che poi è il motivo per cui i politici parlano sempre per emotività, quello ha negato, quello è stato stuprato, si arricchiano sempre l'emotività perché l'emotività purtroppo, purtroppo spesso prevale sulla logica. Classico esempio, classico esempio. Secondo i più moderni studi di psicologia è stato dimostrato praticamente che i figli nati da coppie omosessuali non hanno nulla di diverso dai figli nati e cresciuti da coppie eterosessuali. Ma questo non basterà affermare chi è contro l'adozione gay, perché per loro è moralmente sbagliato e questo, anche se va contro la logica, vince per l'emotività. Posso anche dire che una questione importante che tra l'altro volevo portare in questa live, mi sono anche un po' rotto il cazzo del fatto che la gente si sente in dovere di giustificare l'omosessualità con degli studi scientifici, nel senso per le persone etero e le persone cisgender non sono mai stati fatti degli studi sul perché sono etere, sul perché sono cisgender, quindi questa cosa che la gente porta argomentazioni scientifiche per giustificare il fatto di essere... Mi, 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 mi hanno fatto degli studi sul perché si poteva, sul come mai magari una persona se nasca o diventa sia etero o omosessuale, non è vero che non hanno fatto studi sugli atrosessuali, non è vero. Sì, ma è sempre legato al c'è perché c'è quest'altra cosa, se nasca o diventa. Beh, ma non è, guarda che uno non lo fa mica con discriminazione o con cattiveria, No, 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 ma assolutamente, assolutamente, è il modo in cui vengono utilizzate. Io stesso feci parecchio tempo fa un video dove mi chiesero la scienza come spiega l'omosessualità e io ebbi molta paura di fare quel video perché lì basta un attimo, sai, che ti additano subito come omopo, io ero molto inquietato nel fare quel video, però lo feci lo stesso, poi ne scaturirono, vabbè, di verbi vari, però io dico che chiaramente non abbiamo ancora una risposta certa sul perché una persona è etero o omosessuale, non abbiamo ancora una risposta fissa, ma questo esula dall'omofobia, cioè è pure curiosità scientifica, poi come uno va a sfruttare... No, no, ma infatti una cosa è una pura curiosità scientifica che per l'amor di Dio ce l'abbiamo su qualsiasi cosa, scusate, ho detto il nome di Dio in vano, non vorrei, sono serio, non volevo assolutamente offendere nessuno nella live. Non mi hai offeso qui. Ok, quindi assolutamente la curiosità scientifica ce l'abbiamo letteralmente per qualsiasi cosa, è proprio come viene utilizzata a volte strumentalizzata con, ah l'omosessualità è normale perché anche i leoni si inchiaffettano, mai mi potrò scopare una donna anche senza la giustificazione dei leoni che si inchiaffettano, perché gli animali se è per questo fanno anche molto di peggio, quindi non la trovo una giustificazione o uno strumento. Giusto, però non bisogna dimenticare che noi fondamentalmente, benché evoluti, siamo comunque animali, di conseguenza molti dei nostri comportamenti, istinti e paure deriva da dei tratti ancestrali che avevamo quando eravamo ancora dei privati. Quindi è vero quello che dici, non bisogna usarla per giustificare, ma è anche vero che è inutile far finta che noi non siamo scimmie evolute, quindi d'altro canto... Assolutamente, assolutamente, ma perché per parlare a una persona che non sta rispettando la mia sessualità o la mia identità di genere devo tirarle fuori gli animali? Perché una persona che non rispetta l'omosessualità usa argomenti illogici e quindi tu cerchi di far leva su quelli che possono essere argomenti logici. Che non rispetta l'omosessualità è stupido. Però come hai detto prima tu non ha senso, perché non si combatte la logica con l'emotività. Sì, ma se tu odi i gay a caso, non ti stai basando su un odio razionale, cioè tu non hai detto, è stato dimostrato che gli omosessuali causano il cancro, diciamo una cagata, quindi tu dici, c'è uno studio che dice che sono pericolosi, tu li odi semplicemente perché hai un odio irrazionale dovuto a determinate ideologie estremiste che ti porta ad odiarle. Tu come fai a rispondere a una persona che odia gli omosessuali a caso con argomenti illogici, quando questa persona non si basa sulla logica, devi cercare di far leva su quello che puoi per fargli capire che dice delle stronzate. Andrea, però io credo che nel tuo ragionamento non sia incluso tutto il peso che viene dall'interiorizzazione. Allora, questa emotività è sempre scaturita da qualcosa, cioè da dei concetti che le persone hanno fatto propri per l'indottrinamento di una società che non spinge a ragionare ma che ci fa solamente assorbire ciò che comunque è la normalità per noi e quindi danno per scontato tantissime cose. Dal punto di vista conscio, queste persone odiano le persone omosessuali solo perché non c'è effettivamente una motivazione seria. Però poi se tu vai a parlare, perché alla fine è un po' la morale di tutto, il parlare, il confrontarsi insomma con loro, ti renderai conto che pensano una serie di cose sbagliate che poi sono la giustificazione di quest'odio che può essere contestata con la logica. Quanti io nel mio percorso da attivista che ha iniziato, lo ripeto, a 14 anni, molto prima del collegio, ho avuto il piacere o il dispiacere di avere comunque delle discussioni sia in privato sia nei commenti, quanti veramente ne ho scritti di risposta, con gente che scriveva comunque castronerie omofobe casuali, poi tu andavi a chiedere perché, come mai so tutto quest'astio e ti iniziavano a dire eh le persone omosessuali sono delle femmine mancate, è contro natura, piripim, parapam, tutte delle cose a cui tu puoi rispondere logicamente, quindi in realtà questa emotività è sempre causata da qualcosa che sta a monte, che è il pensiero, per quanto non sia un pensiero consapevole. Io sono d'accordo, infatti la risposta della logica è l'unica risposta sensata, io ho detto solo che non è detto che usando la logica queste persone cambino idea, perché non stanno ragionando con la logica, non si sta parlando di 2 più 2 uguale 4, 3 più 3 uguale 6, si sta parlando di persone che ragionano con l'empatia e non è detto che solo perché tu usi la logica e ragione, questi cambi in idea. Non ho detto il contrario, però io ho detto molto d'accordo con quello che dice Andrea, infatti trovo questo attivismo da internet una grande stronzata, se posso dire la mia. L'attivismo da internet una grande stronzata, come mai Pietro? Perché lo trovo un appiattimento di tematiche sociali e cosa? No, no, vai Pietro, Pietro, vai. No, no, diceva, vabbè, poi è una grande teoria sui social network e su come fanno comunicare, però insomma è un grande appiattimento di tematiche sociali, molto più importanti che vengono ridotte a gare su chi ha ragione o comunque insomma dibattiti istantanei, un consumo veloce di informazioni in realtà molto più complicate, quindi va a finire come dice Andrea, che c'è una risposta logica, un dubbio empatico e non si arriva da nessuna parte, esattamente come adesso, cioè non è che se tu vai avanti a spiegare ad un ambrogio che puoi scoparti 46 maschi in una sera, lui ti dirà che è ok, anche se tu puoi, tu puoi, perché puoi fargli sono d'accordo, anche 47, però nel senso non cambia comunque idea. Scusa Charlie, devo solo dire una cosa, veramente, perdonami per la provocazione, sia tu Pietro sia Andrea, noi con degli argomenti logici abbiamo spiegato perché sulla questione non andare a letto con una ragazza trans in quanto trans ci fosse della transfobia interiorizzata in chi pronuncia questo rifiuto, anche in quel caso la logica non è stata abbastanza perché c'erano dei problemi legati all'emotività delle persone con cui stavamo parlando, però alla fine il concetto, quell'emotività è sempre cagionata da qualcos'altro, nel senso la causa principale è sempre un pensiero interiorizzato che si può eradicare. Pietro poi dirà che le lotte social, questo attivismo online, questo appiattimento è abbastanza per riuscirci, io ti devo dire che ho incontrato tantissime persone fantastiche come per esempio Charlie, come per esempio Jess, che parlando in maniera molto articolata, molto approfondita su diverse tematiche mi hanno dato opportunità di ragionare e quindi di cambiare il mio pensiero. E' già pronta a farlo, ero già pronta a farlo, è anche un po' quello, esatto, c'è anche da dire che tante persone che sono già pronte a farlo, magari di loro spontanea volontà non avrebbero quella tendenza a imparare di sana pianta e quindi mettersi proprio a cercare informazione su un certo argomento che possa essere la transfobia o la discriminazione di qualsiasi altro genere e quindi sono agevolate dal lavoro degli attivisti. Ammesso e concesso che queste informazioni senza queste attivistiche vengono da questi mezzi di appiattimento social, come li definisci tu, effettivamente potessero essere reperibili, cioè se noi conosciamo tutte queste cose e anche perché c'è gente che ce ne parla, i social sono un ottimo modo per fare divulgazione e per far arrivare questo messaggio qui. Quindi non sono d'accordo con la tua visione, mi dispiace per aver interrotto Charlie, prego. No, io volevo dire solo che posso essere d'accordo sull'appiattimento che avviene in certi casi perché certi dibattiti vengono presentati secondo me nel modo sbagliato e si evolvono anche nel modo sbagliato perché poi vengono presentati come se fosse un ring dove esce un vinto e un vincitore quando non si tratta di questo, quindi su quello posso anche essere d'accordo. Però anche come accennava Maria Sofia, l'attivismo social non è l'attivismo ovviamente che poi porta a dei cambiamenti enormi, ma è il primo tassello del domino che innesca una reazione a catena che poi porta a degli cambiamenti effettivi perché ci sono persone pronte ad ascoltarti. Io parto da un background di gameplay, come dicevo prima, quindi mi seguivano al 95% ragazzi, anche abbastanza giovani, molti mi hanno followato perché quando ho cambiato, quando ho fatto coming out, ho cambiato insomma i miei argomenti, molti mi hanno followato perché non gli interessava più, invece tanti altri che non capivano hanno continuato a seguirmi e ad oggi ancora mi scrivono, io ti seguo da quando facevi il gameplay, prima ero omofobo ma ho capito grazie a te, alle cose che hai detto, quindi è una cosa che va, l'attivismo social è una cosa che va molto più sul personale e che divulga informazioni che in altri modi non avresti recepito, io non avrei mai recepito, perché se io ad oggi riesco con sicurezza in me e anche in quello che credo a dire sono una persona non binaria e anche perché grazie al social e all'internet sono riuscito a vedere cose che non mi erano state fatte vedere in passato da nessun'altra parte. Tralasciando poi naturalmente la cattiveria delle persone sui social, perché... Vabbè, ma quello la cattiveria c'è anche nel mondo offline. Sì, ma sui social si esprime, cioè sui social è proprio la fognatura della cattiveria, eh, cioè sui social. Maria Sofia, cos'è che ti fa avere questa ilarità così? Perché Charlie mi fa morire quando racconta le cose, prima ero omofobo, grazie ai tuoi video, ho cambiato idea. Io ero molto omofobo alle medie, però grazie ai social, insomma alle informazioni veloci del web, ho cambiato completamente il mio modo di pensare perché certe cose se non hai questo tipo di mezzi non le vedi. Vabbè, eri anche una ragazzina a 13 anni, eh, a 13 anni ero una ragazzina, lo sai che i ragazzini, non tutti per l'amor del cielo, però molti, lo sai come fanno, io sono fascio, io sono comunista, lo sai come fanno i ragazzini, no, 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 in realtà non era omofobia voluta, cioè non è che dicevo che schifo, ho i gay, non so se mi banna al Twitch sono gay, posso dirlo? No, se lo dici, se lo dici per un esempio, no, Dio santo. Ok, ok, non si sa mai, quindi non è che dicevo questo, però avevo delle idee di omofobia interiorizzata anche molto pesanti, cioè io non riuscivo a definirmi lesbica perché nella mia testa le lesbiche erano solo le donne brutte che non trovavano uomini con cui stare. Ma perché era una ragazzina? Eri piccola. No, non è solo questo, è quello che mi avevano insegnato, perché era quello che di piccola, mentre oggi col mondo dei social, che sin da subito, sin da 13 anni, che appunto erano le anni che avevo io quando pensavo queste cose, possono vedere già che non è così, ad esempio le mie sorelle che sono molto più piccole di me, quando avevano 13 anni non avrebbero mai detto una cosa del genere, perché vivendo il social, stando su TikTok, non ce ne rendiamo conto, ma scorriamo nel giro di 30 minuti, 100 storie diverse, di 100 persone che hanno dei racconti diversi, questo apre tantissimo la mente e alle persone che sono disposte ad aprirla, come dicevamo prima, e quindi ti fa vedere che esiste un altro mondo oltre quello che ci è stato insegnato. Sì, ma posso dire una cosa su questa roba di TikTok? Vai, poi dopo vuoi fare una domanda io per... Cioè, chi è che aveva TikTok già nel 2020 di voi, credo tutti? Io sono venuto nel 2021 a... Vabbè, insomma, per chi ce l'aveva nel 2020 c'era una mega ondata di attivismo LGBT fortissimo, anzi c'era solo quello penso su TikTok, e poi è passato come un trend, perché quando l'attivismo si fa sui social network non riesce ad essere più di questo, cioè più di un trend, contenuta, contenuta, una roba che si consuma. Io lo vedo ancora, io credo che sia solo molto più settorializzato TikTok e quindi magari io posso ancora, e per te sono solo... No, ok, 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 ma c'erano, cioè, video da milioni di visualizzazioni, c'era l'argomento principale, l'unica cosa di cui si parlava adesso TikTok è ancora. Per me è così ancora, per me io non vedo nient'altro che quello. Vabbè, perché segui quello e l'algoritmo ti fa vedere quello. Esatto, è solo l'algoritmo che è diventato più preciso di quanto... Ma prima lo vedevano, anche tu avrai dei video che vedi che hanno visto tutti quanti, prima i video che vedevano tutti quanti erano quelli, poi c'erano le cose che l'algoritmo ti suggerivano, prima era quello il trend del momento, e poi è passato, perché era un trend. No, lo so, ti ripeto, io tutt'oggi... Contenuto da consumare. La maggior parte delle cose che vedo sono queste, mentre quando avevo Musical.ly, perché io ce l'ho dal 2017 con Musical.ly, l'ho scaricato TikTok, io vedevo totalmente altre cose, io credo solo che l'algoritmo si sia specializzato e quindi certe cose non te le mostra più, perché io, i miei video che sono video che vanno, cioè i video che vanno nei per te, non i miei miei, ma i video che mi vanno nei per te sono molto virali e sono il 95% a tema LGBTQIA+, quindi io credo solo che TikTok sia diventato solo più intelligente sull'algoritmo, ma c'è che giustamente magari non interessavano quegli argomenti e non te li fa più vedere. Però è tuttora un tema molto caldo e ne parlavo anche col mio coinquilino, anche lui è un tiktoker, del fatto che tutti noi viviamo nella nostra bolla e che quando usciamo da questa bolla ci scontriamo contro una realtà che fa male, perché io nella mia bolla penso oddio, il mondo è cambiato, adesso finalmente se metto un video con la mia ragazza non mi arrivano insulti, appena quel video va nei per te sbagliati, basta pochissimo per quel video per andare nei per te sbagliati, mi ricevo milioni di insulti. Ma perché TikTok è una piattaforma fatta per lo più da ragazzi piccoli e sappiamo che i adolescenti, specialmente gli adolescenti, sono molto più stronzi del normale, questo è un dato di fatto che gli adolescenti siano con le parole molto più stronze, primo, secondo perché internet non devi rendere conto di quello che dici, io infatti sarei molto interessato, io vorrei far sì che su TikTok quando tu scrivi una stronzata venga fuori il tuo nome e cognome e qualche dato che possa ricondurre a te, no perché magari sai così forse la gente smetterebbe di tirare merda, perché io mi sono trovato a combattere contro tutti, non hai idea, ho avuto a che fare con il gente più esaurita, chi è avuto a che fare con la vita reale, parleresti mai così? La risposta è no ovviamente, perché nella vita reale ci magari è unito tastiera, no? È pieno però, TikTok è infestato. Oggi mi è arrivato su Instagram. Facciamo parlare anche questo momento, visto che ho il piacere di averti qui, è una tematica, in realtà non vorrei aprire una parentesi troppo ampia, vorrei che sia una risposta abbastanza, perché comunque l'opinione degli altri la sappiamo più o meno, però voglio sapere una tua opinione personale, visto che una cosa di cui abbiamo parlato nella scorsa live dove non c'eri, era un'esperienza anche personale, mi sembra anche giusto chiedertelo. Secondo te se un uomo, una persona decidesse di scegliere di non avere un rapporto sessuale con una persona transessuale, è considerato transfobico? Come è stato già detto, dipende tutto dal perché appunto decide di non avere un rapporto con una persona trans. Se alla base del suo rifiuto c'è un pensiero transfobico, ovvero il non riconoscermi, ad esempio nel mio caso come una donna, allora lì sì, purtroppo è un pensiero transfobico, quindi per forza è transfobia. Se semplicemente mi rifiuta perché non si trova attratto da qualche caratteristica mia, che ne so, non gli piace il mio naso, non gli piace perché sono troppo alta, cose del genere, è una caratteristica che può rifiutare qualsiasi altra donna e quindi non è transfobia. Il punto sta proprio nel capire se effettivamente mi rifiuta perché mi ritiene ancora un uomo, allora lì è transfobia. Ma la ragione del mio rifiuto arriva dal fatto che le donne trans sono donne e quindi no, non posso avere rapporti con loro, mi dispiace. Ah beh, però se sono morte, sì, vero Pietro? Solo maschi. Ma se sono donne morte? Eh? Se sono donne morte? Solo s'Ariana Grande. Vabbè, comunque la necrofilia... Solo se sono ancora calde, altrimenti non se ne fa niente. No, io ariana Grande anche fai. Vabbè, le riscaldi parlato da Green Bob di necrofilia, eh? No, 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 ma bene. Stiamo un attimo nell'ilarità del momento. Sì, stiamo scherzando, stiamo a giocare. Volevo sapere un'opinione di Jessica. Allora, adesso una domanda che apre un altro tema, molto molto ampio, quindi qua sarà l'ultimo tema della live, che è il tema in realtà anche secondo me più... Boh, non so, mi piacerebbe sapere l'opinione un po' di tutti. Sul discorso pronomi. Ok? Adesso fatevi fare un attimo una piccola introduzione. E abbiamo subito visto che appena è entrato Charlie, ho sbagliato ovviamente, perché sono stupidi, cioè perché non ci ho pensato a chiamarlo e ho utilizzato un pronome femminile sbagliando. E vorrei sapere la vostra visione di Jessica, Charlie e Maria Sofia per quanto riguarda il discorso pronomi. Anzi, facciamo così. Partiamo da Andrea Don Ambrosio e Pietro Storti perché poi vorrei sentire la loro risposta. Guarda, io mi sono già espresso più di una volta e qua non è che troverai tanta discussione, perché io ho molto semplicemente detto che siccome credo che nella vita sia più importante essere gentili che essere stronzi ed è più gentile far felice qualcuno piuttosto che farlo soffrire, se tu e io ti chiami in un certo modo io ho nessun problema. Basta che me lo dici, perché magari io non è che lo intuisco a fantasia, basta che me lo dici, me lo dici guarda mi fa piacere che mi chiami così cosà e io, beh, può capitare che sbagli involontariamente, ma farò il possibile per chiamarti come vuoi tu, non ci vedo nulla di male, voglio dire, perché devi far star male qualcuno. Don Ambrosio? Ma io vado molto più per il semplice, cioè preferisco chiamare le persone per nome, ecco, poi articolare i verbi, articolare i sostantivi secondo i pronomi strani, ecco, diciamo, ho qualche dubbio, lo posso anche fare, cioè non è che mi cambia la vita, però potrei anche sbagliarmi, però preferisco chiamare le persone per nome. Ma io, sì, ok, va bene essere gentili nella vita, assolutamente, se qualcuno vuole essere chiamato in un modo, no problem, però io ho sempre trovato il discorso dei pronomi una cosa un po' illogica, non l'ho mai capito fino in fondo, onestamente. Cos'è che non hai capito? Penso che dal momento che i pronomi nascono come esigenza dal fatto che ormai il concetto di identità di genere, no, ma il fatto di specificarli e di utilizzarli di diversi da quelli che canonicamente ne useremmo nasce, no, dal fatto che il concetto di identità di genere ormai è una cosa diffusa, che tutti conoscono e che è stato affermato. E questo concetto è basato sul fatto che il genere dovrebbe essere uno spettro, insomma una cosa variabile, praticamente diversa per ogni persona, al di là del sesso biologico. Essendo una cosa variabile su uno spettro non ho mai capito in che modo possa essere scandito tra femminile, neutro e maschile. Ti spiego innanzitutto da dove nasce l'utilizzo dell'esplicitare i pronomi, che questa è una cosa che molte persone non sanno, ovvero il fatto di esplicitare ad esempio i propri pronomi in bio nasce uno o due anni fa, non ricordo bene, come metodo per non far sentire le persone transgender in difetto per averli nella bio, perché le persone transgender venivano misgenderate spesso per motivi che tutti conosciamo, di conseguenza mettevano i loro pronomi nella loro bio di Instagram, TikTok, di quello che era, per fare in modo che le persone rispettassero e le persone cisgender hanno iniziato a fare lo stesso per non far sentire in difetto le persone transgender che lo facevano. Quindi da qui nasce l'esplicitarli. L'esplicitarli perché? Perché appunto l'identità di genere più che uno spettro, che può essere sicuramente anche chiamato così, è un costrutto sociale. Donna e uomo sono costrutti sociali. Sì, su questo siamo tutti d'accordo. Esatto, essendo delle scatole quasi chiuse, delle box consegnate, non tutti si rivedono nella scatola che ci è stata consegnata la nascita, diciamo così. Appunto, ma proprio per questo non ho mai capito perché femminile neutro maschile, proprio perché dovrebbe essere una cosa ultra variabile su un milione di possibilità. Perché validare la mia identità di genere, se io sono un uomo trans e tu mi dai del femminile, stai invalidando la persona che sono, è come se io mi chiamo Charlie e tu però decidi forzatamente di chiamarmi Marco. No, ok, 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 questo l'ho capito, questo l'ho capito, questo l'ho assolutamente capito, ma quindi se abbiamo due pronomi, allora l'italiano esistono due pronomi. Allora, esistono due generi se io posso usare due pronomi. Questo è perché è stata costruita così la lingua italiana, che in realtà viene dal latino che aveva anche il neutro, ma poi l'abbiamo perso nell'evoluzione. Ma questo è perché la lingua italiana è costruita così. Ma in realtà in inglese, per esempio, esiste il singular day, che è il pronome neutro, ed esiste da sempre. Non è una cosa che la gente pensa se l'abbiamo inventata adesso. È sempre esistito il singular day in inglese. In italiano purtroppo... Allora, scusami, scusami. No, perché in italiano purtroppo non abbiamo ancora pronomi neutro, si utilizza nello scritto la schwa, che è un modo di esprimersi in maniera neutro, però è un po' impronunciabile. schwa? L'hai al contrario. L'hai al contrario. È tipo un dialetto napoletano. No, Stimo, non quella, non quella, non quella. Foggiano. È tipo un dialetto meridionale, Gennar Francesc. Lo stasso all'interno dice l'ultima vocale. Se parlassimo tutto il dialetto del sud, saremmo tutti inclusivi. Ma una domanda, una domanda perché mi interessa un argomento su questi pronomi. Ma tu hai detto, Charlie, che i pronomi sono stati messi da chi magari appunto è transgender così per indicare questa cosa anche alle altre persone per non essere, diciamo, misconosciuto e così via. Ma non bastava scrivere invio transgender anziché inviare questa cosa artificiosa? No, dire che sono transgender è una cosa mia, personale. Cioè io non devo essere costretto a fare coming out e dirti che sono transgender. L'importante è che tu ti... Però se metti i pronomi lo stai indicando implicitamente. Ed è per questo che le persone cisgender hanno iniziato a mettere i pronomi anche loro per non fare outing. Perché hanno paura di dirlo? Beh, in realtà sì, Don Ambrogio, ma non è solo la paura. Chi lo, chi lo. Chi è più che è trans, chi no. Ma hanno paura o perché è un disagio? Eh? No, non è un disagio. Gli altri rendono questa condizione un disagio perché molte volte le veniamo discriminati noi appartenenti alla comunità LGBT. Ho la fortuna di essere una carta quiz che quindi non viene discriminata per la propria identità di genere. Però tantissime persone, come anche, credo, Jess, hanno passato un'infanzia. Ok, ho capito questo. Io non capisco il nesso perché va bene mettere il pronome per indicare che sei, non so, transgender e non dire che sei transgender. Cioè non ho capito questa cosa qua. Nel senso, ti faccio un esempio, io sono prete, non mi vergogno di essere prete, anche se qualcuno mi sputa in un occhio per questa cosa qua. Ma no, non ti ammazzano di botte per vergognarmi di quello che sono. Non ti ammazzano di botte per essere un prete. E come dice... Ok, però se lo dici con i pronomi non è la stessa roba che dirlo con un altro aggettivo. No, perché tutti mettono i pronomi come a spiegare. No, è diverso perché i pronomi li usa chiunque. La mia ragazza, la mia ragazza è spiegata, è il pronome, la bio. No, i pronomi sono uguali per tutti. I pronomi sono in lingua italiana, questa è una cosa importante perché... Scusate, domanda da profano, ma non è presa per il culo, domanda da profano. Il pronome neutro, tipo? Fammi un esempio. Non è tanto. Il pronome neutro in inglese è deidem. No, lo è, in italiano per dire come lo dire. In italiano non esiste. Ah, non c'è. Il problema è quello, perché nella lingua italiana non esiste. Solo nello scritto vetti la sua. Esatto, nello scritto. Dijem non è loro, non è tipo loro. Dijem è il purale, ma è utilizzato anche il singolare neutro. Esatto. Ma non si fa che adeguere loro per identificare uno solo? No, gli inglesi l'hanno sempre fatto così. Ah sì, è una cosa... Ah sì, Andrea è tipo slang, è tipo una roba... No, 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 è una cosa della grammatica. La mia ragazza è inglese, ed è una cosa che mi ha insegnato lei, perché io anche questo non sapevo, però essendo lei madrelingua, mi ha spiegato che, ad esempio, se loro trovano un portafogli per terra e non sanno di chi è il portafoglio, dicono someone lost their wallet, perché non sanno se la persona che l'ha perso è maschio o femmina, donna o uomo, quindi anziché usare her wallet o his wallet, usano their. In italiano cosa mettereste ipoteticamente? In italiano... Non ho capito un cazzo, scusate. In italiano si usa il maschile per dare il neutro. Qualcuno ha? Beh, potrebbe anche avere un senso, dopo... Penso. Oppure la sua... Sì, diciamo. Non è perché... È proprio brutta la sua, però posso dirla, bisogna trovare qualcosa un pochino più orecchiale. Allora, è brutta, è cacofonica a livello... È cacofonica, secondo me, a livello di parlato. Eh, ma... Esatto. Perché non siamo abituati, solitamente questo, perché se fossimo abituati non ci sembrerebbe assolutamente strana. Anche la U è proprio brutta da mettere, alcuni provano la U, ma anche la U è proprio brutta da sentire. Sempre perché non siamo abituati. Sono d'accordo, anch'io la trovo cacofonica, perché non siamo abituati. Cioè, se noi ci avessero insegnato che le parole finiscono sempre con la U, non ci sembrerebbe strano, ma sempre i costrutti sociali di cui parlavamo prima. Quindi mi rendo conto... Allora, anche, cioè, se fossimo abituati anche a strizzare gli occhi mentre parli non sarebbe strano. Esatto. Esattamente. Hai ragione. È esattamente quello il concetto. Dio che casino, scusate. È un problema, non puoi mica eliminare tutti mettendo tutto, perché anche comunque tutti rimane una parola, che comunque ha un significato alla fine. No, si può fare che si inizia a implementare un linguaggio inclusivo dallo scritto, utilizzando appunto la schwa. Ad esempio, sabato sono andati in onda i Diversity Awards sul Rai 1 e i sottotitoli, tutti i sottotitoli avevano la schwa. Questa è una roba riduzionaria. Lì diventa abbastanza molesto, perché lì tu stai imponendo comunque un linguaggio e diventa complesso lì, capito? Gli altri non stanno imponendo un linguaggio e non mettendo la schwa. È una cosa discriminatoria per le persone che non si identificano, cioè che vorrebbero sentirsi, cioè vorrebbero vedere utilizzati altri pronomi. Sì, però no, perché combattere i propri diritti è giusto. Dire agli altri come devono parlare... Ma io non ti sto dicendo come devi parlare. Io parlo così, poi se tu non vuoi parlare così, a me va benissimo. No, ma per l'amore del cielo, se me lo chiedi per essere carino, non vedo perché no, ci mancherebbe altro. Cioè voglio dire... No, 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 è quella la questione, nel senso se tu non vuoi utilizzare... Se voglio sbagliare i congiuntivi, sbagliare... No, esatto, cioè ognuno parla come vuole. Se voglio sbagliare i congiuntivi, oh mio Dio, ti prego. No, ma io stavo accendo, non è vero che a me non cambia niente. Si parla in italiano, cioè nel senso. Però... Cioè io non vedo perché rispettare la persona. Inventarsi le loro due cose. Ah, scusa Pietro, comunque la lingua è sempre in posizione, quindi non è che è sbagliato a cercare di fare in un linguaggio più complesso. È l'evoluzione dei millenni, non è che io all'inizio dico... Certo, ho capito, ma da un punto devi iniziare. Se mai inizi, mai cambia. Esatto. È un'evoluzione più fluida, non so come dire. Qua mi sembra un po' una forzatura. Eh beh, si riesce a giocare in modo più inclusivo per dare un po' un neutro. Io personalmente, sempre nella mia bolla, vedo sempre più persone che utilizzano la schwa nello scritto. Esatto. Sempre nella mia bolla, ovviamente, come dicevo prima. Magari un giorno l'era implementata... Paradossalmente, uscendo un attimo dalla bolla, parlando sempre di schwa e di linguaggio più inclusivo, ti faccio un esempio. Io gioco tanti videogiochi. C'è un videogioco dove c'è un personaggio che appunto è non-binary e per descriverlo usano la schwa, quindi... Ma eccola, colgo l'occasione. Posso chiederti cosa vuol dire esattamente non-binary? Cosa significa che è esattamente? È una persona che non rientra nel binarismo di genere. Tecnicamente esistono appunto i due generi principali, considerati principali, non maschio-femmina. E maschietta, femminuccia, ok. E poi ci sono le persone che non rientrano in questi due generi e quindi vengono dette non-binary. Ma in che senso si scusa? Perché non rientro? Non l'ho ancora capita. Ma non l'ho capita io? In che senso, scusa? E quindi che cos'era? Non ho capito. Una persona, indipendentemente dalle definizioni. È un genere a parte. È una persona che non si identifica nei due generi, ma si può identificare in qualcos'altro o in nessuno di questi generi. Ma non sarebbe più comodo? Essendo il genere appunto un costruzzo. Ma scusa, per il genere cosa? Il genere uomo-donna, quelli classici? Sì. Quelli sono i classici, sono appunto i due binari. Queste sono persone che o rientrano nei due binari oppure sono fuori. Non so, mi sembra che sia... Cioè, è sempre stato così allora? Nel senso... In realtà sì, nel senso... Tu nasci maschio e comunque fai quello che vuoi, quindi il tuo genere è quello. C'è differenza tra nascere maschio e femmina e sentirsi in un modo? Cioè, c'è differenza comunque tra nascere con un sesso e sentirsi... Esattamente. Esattamente quello è il punto. Le persone non binarie non si sentono rappresentate da nessuno dei due generi e quindi si sentono non binarie. Ho capito, però scusa, cosa ti piace? Che c'entra cosa ti piace con cosa sei? L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono due cose completamente diverse. No, no, ma io chiedo da profano, sto dicendo. Io chiedo da profano, eh. No, ma mi chiedo da profano, eh. Dalla parte nostra è venuta la controdomanda. Cosa sei tra ciò che ti piace con ciò che sei? Anche io sono piuttosto confusa. L'orientamento sessuale è una cosa totalmente diversa dall'identità di genere. L'orientamento sessuale è quello che ti piace, quindi rispondendo alla domanda... Quindi non binarie non sei né uomo né donne? Non binarie rientra nell'identità di genere. Cos'è che... Cos'è che... Ma io... Uomo o una donna lo sai, per forza, c'è... No, maschio o femmina a livello dignitario è sempre... Puoi essere maschio o femmina o intersex, ma l'identità di genere, come dicevamo prima, è un costrutto sociale. Uomo o donna sono costrutti sociali. Ma scusate un attimo la domanda. Ma che cos'è che spinge una persona a dire mi sento maschio, mi sento femmina o non mi sento nessuno? Cioè, quali sono le... Cioè, qual è la sensazione? Ci sono diversi fattori, diversi fattori che possono essere... Abbiamo donna, uomo e non binarie. Cioè, cos'è una donna, cos'è un uomo e cos'è un non binarie? Quali sono... Quali sono... Perché uno deve dire non mi sento né donna né uomo o mi sento uomo o mi piacciono le donne? Mi sento uomo o mi piacciono le donne? E qui stiamo andando nella scienza che non l'abbiamo nemmeno studiato, non lo sappiamo nemmeno noi il perché. In realtà dal punto di vista biologico ci sarebbero delle spiegazioni. Per esempio, molte persone trans binarie provano discoria di genere perché, Jessica, correggimi immediatamente se sbaglio, non solo il loro corpo non è esattamente quello che vorrebbero, se lo immaginano diverso, ma anche perché il ruolo che la società ha attribuito loro perché alla nascita erano biologicamente maschi o femmine, non è un ruolo che fa sentire queste persone espresse. Erano maschi o femmine, si l'avevo detto bene, vabbè, una concordanza tra maschi e femmine, scusate. Quindi, di conseguenza, questo senso di disforia, oltre a essere causato per una ragione puramente fisica, viene anche dal modo in cui gli altri ci percepiscono, dal modo in cui noi ci dobbiamo comportare, perché abbiamo un certo tipo di posto all'interno della società che è proprio regolato tramite il genere. Questo status quo, definiamolo in questo modo, può essere accettato da delle persone. Quindi io mi sento donna perché poi, per delle ragioni personali, tutto quello che culturalmente noi associamo alle donne lo ritrovo molto nella mia vita e quindi non rinnego questo background culturale. Però io potrei anche rinnegarlo dicendo che in quanto persona non devo essere limitata in alcun modo nelle mie scelte, nel mio senso di identità, nel mio senso di appartenenza a qualcosa in base a un costrutto, quindi in base a un concetto che è stato creato ad hoc per ragioni antropologiche, per ragioni storiche, tradizionali. Io sono d'accordo, però comunque non è tutto quanto un costrutto, le differenze tra uomo e donna sono una questione di biologia e molte cose. Ma quelle sono differenze tra maschio e femmina? Tra maschio e femmina, scusate. Però al di là della lezione di biologia o sociologia, magari se... Sanno il genere diverso dal sesso biologico e questo... Posso fare una domanda, scusate? Certo. Allora, esistono donne, uomini e non binari, qui tutti quelli in mezzo, però quindi voi riconoscete comunque l'esistenza anche del genere donna e del genere uomo? Sì. Sì. Ok, posso sapere com'è fatto un uomo? Cos'è un uomo? Le caratteristiche del genere uomo? Le caratteristiche del genere uomo possono essere magari l'essere percepiti come un uomo all'interno della società. Non l'essere percepiti, certo. Sono tutti stereotipi. Quali sono le sue caratteristiche? Allora, allora, bisogna fare un attimo un distinguo. Non è che se esistono uomini e donne vuol dire che questo discrimina gli altri, facciamo un distinguo. Non l'abbiamo mai detto. No, 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 lo so, non ho detto questo, non ho detto che l'avevi detto, era un distinguo che volevo fare io anticipatamente. Cioè, è chiaro che gli uomini hanno il testosterone, hanno i peli che derivano del testosterone, i maschi, i peli che derivano del testosterone, hanno una struttura ossea, però sicuramente esisteranno anche persone che non rientrano e che eventualmente si sentiranno in un modo diverso. Voglio dire, la mente umana è molto complessa. Esatto. Non ci dimentichiamo che la mente è in grado di creare degli stoppiamenti di personalità, eh. Cioè, la mente umana è un casino inenarrabile, quindi non è affatto impensabile che esistano persone che non sono nate nel corpo, che si sentono o che non si sentono uomini o donne. Perché la mente è complessissima, eh. No, no, ma questo è ok. Però... Scusate, è il mio cane che abbaia. No, 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 è un po' parlato. Sì, anch'io. È un eco, è un eco. Credo sia il mio cane che abbaia che produce l'eco. Però, Andrea, un'unico punto, quello che dici io lo posso anche capire, però secondo me andrebbe un attimo analizzato meglio su un punto, ovvero quello del io mi posso sentire diversamente, quindi posso, ehm, diciamo, identificarmi in un genere diverso rispetto a quello che mi è stato assegnato alla nascita, perché il mio aspetto fisico, eh, non mi piace. Non è solo quello, perché, appunto, come stavo cercando di spiegare prima, vedendo anche Jess che concordava, alla fine, ehm, quello che noi siamo non è solamente influenzato dal fisico. Le persone transgender non vogliono, sempre se vogliono, perché non è detto che tutte le persone transgender vogliono effettuare una transizione, effettuarla solamente perché provano, eh, dolore per il loro corpo. Si tratta anche di un problema sociale, perché, come stavo cercando di rispondere a Pietro, per esempio, per degli stereotipi, che comunque le persone possono accettare o meno, ecco perché noi diciamo che uomo e donna sono due costrutti, ma le persone possono comunque decidere se... Ma quali stereotipi, quali stereotipi? Per esempio il fatto che da una donna ci si aspetta che si trucchi, per esempio il fatto che da una donna ci si aspetta... Ma questa cosa non ho capito se è per la comunità LGBT... Aspettate, 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 falla finire, se no non capisco il cazzo del discorso, dicevi? Il fatto che, per esempio, una donna debba, come anche diceva Andrea, però volevo fare un escursus più su ciò che a livello comportamentale ci aspettiamo da una donna e poi in contrapposizione anche da un uomo per il binarismo di genere, perché una donna debba sembrare in un certo modo anche dal punto di vista fisico. Ci sono una serie di cose che nella nostra mente ci fanno immediatamente... Ok, ma tu dici ce l'aspettiamo come se fosse una cosa negativa, ma prima ti ho chiesto se tu riconosci l'esistenza del genere donna e tu mi hai detto sì, quindi te l'aspetti anche tu che una donna si trucchi, si comporti come una donna. No, quelli sono dei comportamenti che la società si aspetta, ma questo non vuol dire necessariamente che una donna debba fare quello, anche se si riconosce nel genere figlio. No, no, certo, ma è diverso perché biologicamente il fatto che la donna si trucchi non è un costrutto sociale, perché le donne sin dall'antichità, da quando eravamo scimmie, usavano la femminilità, l'aspetto, la grazia per attirare gli uomini, che è una caratteristica che gli uomini guardano. Esattamente come gli uomini sfruttavano la forza fisica o la mascolinità per attirare le donne, quindi il trucco non è solo un costrutto, c'è dietro tutta una questione biologica comunque. Ma non è prettamente biologica. Vabbè, comunque trova il tempo che trova gli uomini in T2. Certamente, certamente. Sì, è sempre quello che con l'evoluzione è poi diventato… Più che biologico, Andrea, è un discorso antropologico che va a giustificare l'origine di fenomeni, comunque contestabili, come Feuerbach potrebbe parlare dell'esistenza di Dio, che non è nient'altro che una forma di alienazione che appunto viene dal desiderio umano, dalla necessità umana di trasferire tutte delle virtù, tutte comunque delle grandi capacità che sono lodevoli per la nostra specie in un solo ente da venerare. È una roba biologica che c'è intrinsecamente alla nostra natura, è una roba che noi abbiamo costruito. Cioè, invece sì, c'è della biologia in questa cosa qui, non è così scontato, non è sull'antropologica, è biologico, perché il fatto che… Poi ripeto, perché lo dico sempre, perché ogni volta che parli questa cosa, sempre lo dici per descrivere… No, sto parlando puramente scientificamente. C'è un motivo per cui un tipo di donna attrae un tipo di uomo e viceversa? E questa cosa qui è una cosa biologica. Infatti è stato studiato che a livello scientifico, dimensioni delle spalle e pettorali sono i punti che più piacciono anche alle donne. Ma questo perché? Perché sono quei punti che possono garantire alla donna sicurezza per lei e per la prole a livello fisico. E dare alla prole anche un fisico ben prestante. Viceversa, i fianchi comunque e una struttura della donna fatta a pera è ideale per rimanere incinta e produrre dei figli. Non è tutto quanto casuale. Sì, però non è neanche vero che questo debba per forza portare a una condizione di causa-effetto. Se volessimo sempre parlare di filosofia, questa non sarebbe una determinazione quanto un'influenza, quanto un condizionamento. Perché fondamentalmente io potrei stare con un partner anche non volendo procreare con questo partner. Quindi tutte le ragioni che andrebbero a giustificare il mettermi insieme a lui, che per lo scopo ultimo della procreazione andrebbero a cadere in questo momento. Ma sempre poi questo poi implica che si debba, come dire, attribuire un certo ruolo ai maschi, quindi a degli individui peni muniti, alle femmine che hanno una vagina. Non è vero. Anch'io no. Eh? Assurdo. No, dicevo assurdo che anch'io al pene. Io ne ho due, quindi sono a posto. Madonna, io ne ho due. Io ne ho due. Non è che è un ruolo. Cioè, per l'amor del cielo, non siamo nel 1920 dove l'uomo va a lavorare, la donna sta a casa, va a lavare i piatti, per l'amor del cielo. Però è indiscutibile che comunque ci sia. Purtroppo. Però è indiscutibile naturalmente che gli uomini hanno determinate caratteristiche, le donne ne hanno altre, per le quali, per lenta o nolente, ci sono delle cose. Ma non vedo perché queste caratteristiche dovrebbero per forza comportare un'attrazione. Il problema è che qui si cade per forza in una concezione delle cose che è fortemente eterofessuale e anche poi... Ma non c'entra l'eterosessualità, perché un uomo sessuale si sentirà attratto allo stesso modo dall'uomo per le caratteristiche medesime. Ma non è vero, perché nel momento in cui una donna si sente attratta da un uomo, e si parla sempre di donna e uomo come costrutto, quindi no, un maschio e una femmina, mettiamoli in maniera basici, mettiamoli in maniera basica, si sentono attratti l'un dall'altro perché la femmina deve essere protetta dai pettorali, dalle spalle poterose dell'uomo. O dal cervello, dal lavoro, può essere qualsiasi ragione sociale anche. Però stavo finendo di parlare. Prego, prego. Si presuppone che la donna, cioè la femmina, in quanto tale, abbia bisogno di protezione. Allora un maschio che cerca in un altro maschio questa protezione, lo cercherebbe in quanto maschio? Vedi che le cose si stanno già spasando? Sì, sì. E allora tutti potrebbero cercare una cosa indipendentemente dal loro sesso biologico e dal loro genere. Allora quindi la tesi iniziale che da parte tua era, noi in base al nostro sesso biologico ricerchiamo delle cose che... Io parlavo dei trucchi, io parlavo dei trucchi, stiamo andando molto in avanti. Sì, ma comunque cade, cioè risulta fallare. No, non cade perché le donne cercano cosa tra il tre l'uomo che le garantisca un protezione. Vuol dire che secondo me questa discussione di quello che era all'epoca non ha più senso, nel senso che all'epoca magari una cosa è nata per un motivo, ma come hai detto anche tu prima Andrea, noi siamo talmente complessi che ci siamo evoluti molto di più. E quindi una volta sacciati i nostri bisogni primari che potevano prima essere accoppiarsi, adesso diciamo che è diventato grazie alla società in cui viviamo magari anche più semplice, quindi abbiamo anche modi diversi di scegliere i nostri partner che non sono più legati per forza alla struttura fisica. Adesso abbiamo altre questioni che stiamo affrontando, quindi se prima il trucco magari usava la donna per attivare l'uomo, adesso anche gli uomini possono truccarsi, no? Se voglio attirare, sì sì, ma io l'ho detto questo. Bello, bello questo argomento, bello questo argomento. Jess, scusami, a te piacciono gli uomini? Chiedo prima, non lo so, non vorrei sbagliarmi, a te piacciono gli uomini, giusto? Sì, a bisellora. Dimmi come ti piace un uomo. Dimmi come ti piace un uomo. Lo preferisci irachitico o in forma? Ma che ragionamento è... No, voglio sapere, voglio sapere, per capire. Però scusami Andrea, questo non è manco un discorso da fare, perché si presuppone alla base che quello orachitico, che già è un termine che parte con una connotazione negativa, non piaccia. Quando è una forma fisica che semplicemente può essere bella, indipendentemente da quello che, per qualcuno intendo, bella per qualcuno, indipendentemente da ciò che noi ci aspetteremmo di vedere nel bello. Perché anche quella è una costruzione, ognuno ha i suoi gusti, però è anche vero che questi gusti sono molto influenzati da quello che ci viene proposto, ci viene propinato come bello da quando siamo nati. Ma non è propinato, è una questione biologica. Non è propinato. Posso dire una cosa? Ma che più buongiorno, sì. Che il signor conduttore dovrebbe parlare. I buongiorno non piacciono. Ma capito? Sì, ma magari ti piacciono intelligenti e il cervello è lo strumento principale col cui al giorno d'oggi il loro garantisce sopravvivenza. Il prossimo che parla muore. Allora, praticamente, volevo dire... Morto! 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 Volevo dire una cosa... No, vabbè, però non devo dire niente, ma adesso lo dico. No, volevo dire una roba che magari voi mi ucciderete tutti o tutte, quello che è... Scusate, mi sono toccato. No, io volevo dire che secondo me, io sono d'accordo su tutto quello che dicono, su tutto quello che dite voi, più o meno. Caso. Voi, nel senso, voi tre sotto. Ma io sono dell'idea che... Io mi sono sempre domandato del motivo per il quale questa cosa dell'LGBTQ e tutto quello che è, e non voglio prendere giù sta roba perché non mi ricordo bene come si dice, ed è anche il motivo della mia critica che vorrei fare anche a voi in realtà, il motivo per il quale, secondo me, molti prendono in giro un po' questa cosa è perché, secondo me, una cosa in realtà che secondo me non è così complicata da capire, secondo me è stata resa troppa piena di roba che uno sente molte discussioni di questa diretta e dice non ci ho capito un cazzo, no? E quindi si crea talmente tanta confusione che uno dice ma si vaffanculo, non ci ho capito niente e magari scatta la presa in giro, no? Nel fatto di non binario, neutro e tutte queste robe qua, no? C'è talmente tanta roba confusionaria che non si capisce perché uno è donna, non è donna, è uomo, è metà, non... Anzi, che secondo me questa esagerazione, tra virgolette, va a creare, secondo me, secondo me va a creare, non sto dicendo che si aspetta, ma secondo me va a creare quella che poi è la magari la beffa di questa tematica. Ma Grinball, però scusami, se esistono che cazzo c'è... Cioè, aspetta, esistono miliardi di specie di animale, ma questo non è scoperto che un bustolare nella testa, cioè esistono le buste, se poi tu vuoi capirle tanto meglio, se non vuoi capirle si può. Grin, rispondo a te e poi vorrei cercare di rispondere a Andrea riguardo la questione precedente. Allora, il fatto è uno ed è anche molto semplice, non è mai responsabilità di chi si occupa con tanta pazienza, come facciamo noi attivisti, che ci spendiamo tempo, veniamo martoriati da insulti, non veniamo nemmeno ascoltati, se le altre persone hanno una brutta reazione rispetto il nostro operato, perché oltre a metterci tantissimo impegno, lo ribadisco, quello che diciamo è anche chiaro, perché sperimentando sulla nostra pelle tutte queste situazioni o tutte queste realtà, poi riusciamo anche a spiegarle, affinando la strategia di comunicazione in maniera piuttosto lineare. E anche stasera, non è che abbiamo fatto questi grandi volipindarici, io stessa che riconosco di poter essere abbastanza arzigogolata nel modo di esprimermi, determinate cose, credo di essere riuscita a farle arrivare, ma perché poi c'è riuscita Charlie, perché poi c'è riuscita Jess, quindi se poi queste cose sono effettivamente tante, non è importante, perché vengono tutte spiegate prima o poi, non divengono al pettine, se poi l'altra persona non ha volontà di ascoltarle, forse è colpa sua, non è colpa nostra ed è per questo che noi non dovremmo essere derisi, quindi anche le persone che ci stanno ascoltando meno risata più ascolto, è questa una cosa che potrebbero cambiare. Non è che venite derisi voi in quanto quello che siete, capito? È che ci sono milioni di ragazzi. Tutta la comunità, vale comunque quel discorso. No, 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 il fatto è che quello che diceva Simo è che comunque il modo in cui spiegate queste cose, in questo continuo tentativo di categorizzare e creare nuove categorie, nuove divisioni, però dal nulla, perché capito, donna e uomo come concetti sono nati in millenni e millenni, poi boom, dal 2019 in poi sono nate altre, una quindicina di categorie di concetti molto stretti che la comunità ha provato a far passare. Però tu ogni volta che trovi un nuovo concetto gli dai un nome, come dai un nome a tutte le cose, no? Le scarpe hanno un nome, hanno le marche diverse, ogni volta esce una marca nuova che ha un nome nuovo. Siamo parlando di scarpe, siamo parlando di persone. Io credo che la risposta è il concetto di dare un nome a tutto. Però non vado a mettere in dubbio le marche precedenti. Ma non è vero, certo che si può fare, anche perché poi storicamente parlando pure questo discorso è abbastanza blasfetto nel momento in cui gli individui hanno avuto possibilità di esprimere liberamente il loro pensiero senza possibilmente venire linciati pubblicamente o anche bruciati dalla santa inquisizione o qualsiasi istituzione repressiva che fosse. Ma io sono d'accordo, io sono d'accordo. Eh no, però Pietro sei d'accordo. Io riconosco l'esistenza delle persone non binarie, non è che sto dicendo questo. Scusami, tu hai detto. Io credo che il popolo italiano abbia reagito così a questa nuova categoria espressa in modo così stretto e scientifico senza essere una cosa scientifica. No, però aspetta. Come internet, le nuove tecnologie, c'è una cosa nuova e nessuno capisce un cazzo. No, è per dire che quando c'è una cosa nuova, nessuno capisce un cazzo. No, no, io ne stavo dicendo questo. Pietro stavo parlando però, stavo parlando. Prima di tutto ci vuole un po' di metodo. Nel senso che tu hai detto, queste cose non sono mai esistite, uomo e donna esistono da millenni, nel 2019 abbiamo iniziato a pensarla diversamente. Forse perché prima non ce n'era la disponibilità. No, no, ma io non stavo facendo quel discorso. No, però Pietro, posso finire di parlare. Tu hai detto questo. Poi chiarisci bene il tuo punto. Io intanto rispondo a questa istanza, anche perché può servire a chi magari ha lo stesso dubbio. Tu non volevi intendere quella cosa? Intanto è uscito il discorso. Quindi prendila come una parentesi mia. Cioè tantissime cose nella storia sono state sbagliate e le stiamo mettendo in discussione. Se prima magari non l'abbiamo fatto è perché non ce n'era proprio la possibilità materiale, dato che questo avrebbe portato delle conseguenze non differenti per la stessa incolumità dei soggetti ribelli. Cioè ripetiamo, persone bruciate da istituzioni come la Chiesa per avere un pensiero dissidente. Quindi io credo che determinate strutture noi le vediamo così state, così consolidate. Perché prima d'ora non abbiamo mai avuto modo di poterle smantellare. Ma a parte quello, scusami, volevo rispondere un attimo ad Andrea quando lui diceva dell'intelligenza come anche quella però è una caratteristica che viene dall'evoluzione e serve per garantire l'accoppiamento, comunque renderlo più semplice. Tutte le caratteristiche possono fungere. No, 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 ho detto questo. Ho detto che comunque l'intelligenza è comunque una caratteristica che attrae perché noi siamo una specie basata sull'intelligenza. Una persona in intelligenza è più facile che abbia la vita, diciamo, rischia a farsi strada nella vita e a creare una prola intelligente. Che anche se tu non vuoi avere figli è un istinto che abbiamo noi. Non è evitabile purtroppo, cioè, io sono il primo che vorrebbe liberarsi degli istinti essere full automa ma non è possibile, noi abbiamo degli istinti è inutile negarlo però è anche vero che prima di tutto io potrei anche avere la preferenza per il mio stile di vita, per il modo in cui sono cresciuto, per una persona leggera e quindi non è tanto il mio istinto ma come poi la mia personalità viene costruita come una sorta di psicologismo se volessimo utilizzare questo termine in base alle mie esperienze o in base semplicemente al mio modo di essere che si va ad addizionare, si va a trasformare per una serie di cose quindi il modo in cui lo vedi tu è molto generalistico cioè tende molto a non vedere la complessità della mente umana che poi è un tema, da quello che ho potuto capire a cui tieni molto inoltre, aspetta, volevo dirti un'altra cosa interessante io non ho detto che uno sceglie un partner preciso, preciso ci possono essere delle piccole sfumature ho detto che esistono delle caratteristiche inconfutabili che sicuramente rendono una persona più attraente o meno attraente poi ci sono le sfumature ci sono le scelte private le scelte personali ci mancherebbe dicevi? ma no, io credo che non sia neanche così tanto oggettivo nel momento in cui io posso conoscere qualcuno e posso soprattutto avere un rapporto con qualcuno in base alla situazione in base a una serie di cose che si costruiscono sempre come fosse un'opera d'arte un po' come quando una parola cambia in base al contesto e poi detto da me è abbastanza ambigua come cosa ma vabbè la questione Edward la potremmo magari riprendere con un creator nero quella serve un'altra live perché diventerebbe lunghissima lo faremo lo faremo assolutamente assolutamente cioè è proprio il discorso che tutto quello che viene costruito anche io me lo immagino da un punto di vista molto molto artistico quasi quasi intorno al soggetto può determinare le sue scelte quindi dire il soggetto sceglie le caratteristiche di questa persona perché a livello generale sono più attraenti è improprio cade nel momento in cui tutta la realtà del soggetto è costruita in maniera molto più complicata può portare a delle scelte molto più personali molto più contestuali sì ma esistono lo stesso quindi Maria Sofia una domanda tu ti sceglieresti mai un fidanzato stupido no perché non credo nell'amore romantico quindi non potrei no 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 tu ti sceglieresti un fidanzato stupido se dovessi io non posso no vabbè come potrei dovere non lo farei perché in partenza perché non credo nell'amore romantico lascia perdere dico se dovessi fidanzarti con qualcuno lo sceglieresti stupido o intelligente cioè è come se ti stessi chiedendo a una persona gay se tu dovessi fidanzarti con una donna si può fare si può fare non è mica vero a me se mi chiedessi di scegliere un uomo te lo descriverei non è mica vero non è mica vero io credo che questa sia una questione io sono attratto da donna ma lui non lo sa quindi io penso che a questo punto sia molto soggettiva come cosa nel senso che ognuno di noi ha un tipo di persona da cui puoi essere attratto io ho un tipo di donna da cui sono attratto e cioè tutte le mie crash che ho avuto in passato e in presente e futuro hanno tutte le stesse caratteristiche ma penso sia una cosa soggettiva perché le ragazze che piacciono a me non sono mai piaciute a nessuno dei miei amici è la mente più complicata di così Andrea sì ma perché com'erano assomigliavano vagamente al gobbo di Notre Dame ma volendo sì perché io lo posso trovare esteticamente bello perché si va a dare un valore intrinseco alla bellezza ma in realtà ma in realtà no le mie ragazze la mia attuale ragazza le consideravo molto molto belle semplicemente generano nei gusti delle persone sì assolutamente ma poi di noi ha dei gusti personali ma anche abbastanza abilista certo ragazzi ma sicuramente però esistono delle caratteristiche che piacciono ragazzi sono degli studi alla mano ma che piacciono a chi che piacciono di più ragazzi sono studi alla mano non si può negare l'evidenza ok ma forse sarà anche allora però piacciono a più persone penso ok a più persone è già diversa è già diversa ci sono delle caratteristiche che a livello inconfutabile a livello assoluto sono migliori no perché no no la bellezza obiettiva non è vista in niente no no che migliori no 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 non ho mai detto migliori ci mancherebbe altro Stephen Hawking era paralitico io lo considero il più grande uomo sulla terra sia chiaro non ho mica detto migliori non esiste migliori per meno dal punto di vista dell'attrazione fisica no no non migliori non migliori più si dice più propensi a 30 dipende sempre dalla persona una generalizzazione io continuo a pensare che sia una cosa molto soggettiva si sviluppa anche in base a quello che abbiamo visto nell'infanzia se vogliamo citare ci sono delle percentuali molto alte voi potete pensarlo ed è lecito ma ci sono gli studi ragazzi io non mi sto investendo le cose però questi studi possono anche essere basati su un'influenza culturale come sostiene Charlie perché Pietro dice in maggioranza le persone hanno questo tipo di gusto sì ma come dicevamo non è una cosa culturale antropologica sono studi sociologici quindi si rifanno di ma scusate non c'è niente di male scusate perché dovrebbe essere una cosa brutta ma semplicemente perché non è vero nel senso che ma scusate un attimo scusami scusate un attimo scusate un attimo ma cioè tu Maria Sofia non sei d'accordo che ci siano dei tratti somatici che sono più piacenti che altri è sempre una roba molto soggettiva cioè ok però statisticamente non avremmo le modelle e i modelli se questa cosa non fosse vera ma le modelle e i modelli sono cambiate nei secoli Andrea esatto esatto e anche questo è il punto che negli anni la standard di bellezza è cambiato tanto sì ragazzi ho capito Sofia Loren magari era un po' più incontechinata però era bello uguale voglio dire ci prendiamo in giro ragazzi dai ma sempre per la nostra visione però tantissimi anni fa c'era un'altra concezione di bellezza quindi per rispondere a Pietro il motivo per cui le statistiche parlano chiaro rispetto alla predominanza di un carattere su un altro sarà anche perché noi culturalmente siamo abituati a percepire quella cosa come bello io lo posso dire per me stessa prima di portare i peli sotto le ascelle io li trovavo proprio come diciamo fronzoli definiamoli così non troppo estetici ora mi piacciono perché ci sono abituata non dico che quindi sia tutto un incostrutto sociale perché tutti avranno i loro gusti indipendentemente da tutto dico solo che questi gusti in queste statistiche non possono essere presi come obiettivi come una verità assoluta perché sono sempre influenzati ma i peli si tende a ricondurli più a una caratteristica maschile perché i peli nascono dal testosterone che è un ormone più maschile però no se vanno quelle cose ma io non ho il testosterone ma le mie tante sono maschile per il testosterone ragazzi non possiamo negare ma io sono piena di peli Maria Sofia io l'ho quattro volte te ma dai per favore voglio dire ho capito però sono piena di peli ma non è ci sono tanti miei amici che invece sono privi di peli sono buoni io vi voglio bene i peli sono prodotti da il testosterone più un erino che è un ormone maschile ragazzi ok ma che cosa c'entra questo con la bellezza no per dire che per dire che i peli perché sono considerati brutti perché i peli rimandano a quello che era anticamente un sistema che noi usavamo per coprirci dal freddo ci siamo evoluti abbiamo perso gran parte dei peli per una questione anche estetica di riproduzione cioè non è solamente una questione di clima i peli sono diventati superflui anche per una cosa estetica per mostrare più la parte della donna o dell'uomo in maniera maggiore in maggiore misura legata anche al fatto che abbiamo però vedi questa è sempre una visione che ti porta a concepire in questo tuo modello una donna attraente nel momento in cui questa donna mostra i suoi genitali in maniera più pulita proprio perché così sono più a me a me per mettere più in esposizione i genitali però per esempio ci sono molte culture che vedono molto più attraenti le donne che si coprono e lì è tutta la modesty culture ci hanno fatto dei video bellissimi al riguardo poi posso anche ritrovare qualche link e te lo mando con piacere che svelano come le donne coperte sono molto più attraenti perché poi nel momento in cui si scoprono e non hai assolutamente idea di che cosa ci sia sotto quello che possa essere un velo poi qui si entra anche in una questione però quello è un concetto diverso però quello è un vestito non è un pelo è diverso allora se tu mi parli di peli che sono esteticamente brutti perché coprono le parti genitali che devono essere esposte perché così sono più attraenti per me i peli sono brutti punto c'è anche un uomo peloso a me fa cagare c'è un uomo a schiena peloso mi fa schifo però qui non si parla tanto di te perché penso sia una cosa anche qui molto soggettiva nel senso ma questo sicuramente ma di penso maria si però il motivo per cui la donna depilata risulta più bella è sempre è sempre biologico ragazzi ma risulta più bella ma io non penso in questo periodo poi tra l'altro perché non è sempre stato così basta magari qualche andrea posso farvi la domanda depilarsi ma che c'entra ma non è vero la depilazione esiste da notte ma lo stesso Sgarbi nell'intervista alle Iene che hanno fatto con me ha detto che la donna senza peli per lui è disgustosa perché la va insomma non so se posso dire determinate cose su Twitch sono la sbaranchia è una parte del corpo da scoprire in cui insinuarsi e ha detto un sacco di roba i peli d'estate sudano c'è fuori l'odore di merluzzo avariato dai ragazzi ti lavi Andrea non buttiamolo così non semplifichiamolo così sono anche pieni di batteri ma non è vero i peli proteggono dalle infezioni soprattutto nelle zone genitali questo anche biologicamente parlando non regge la puzza sono i batteri la puzza sotto la scella ho capito ma i peli ci sono per un motivo rimangono per un motivo sopra i nostri genitali servono per proteggerci quindi se volessimo proprio parlare di ragioni biologiche volessimo proprio parlare di ragioni evoluzionistiche potremmo anche tirare fuori questo però non dobbiamo spostarci dal focus del discorso tu ne hai detto stavamo parlando scusate stavamo parlando allora la tua diciamo la tua affermazione la tua tesi si basava su un enunciato ovvero la vagina senza peli sarebbe più attraente perché le zone genitali guarda che lui parla sempre io credo che lui parli sempre di tendenze generali credo che andrea faccia sempre riferimento a tendenze generali perché così si scoprono di più però per molti per dire la copertura come io ho fatto l'esempio della modesty culture che comunque è un vestito ma che poi sarà scoperto come poi sarà scoperta anche la penetrazione se si dovesse parlare dell'atto in generale la trovano più conturbante è sempre una questione soggettiva cioè non si può generalizzare così togliendo qualsiasi merito a quello che è il gusto del soggetto alla preferenza del soggetto Andrea secondo me è una grande generalizzazione uno può preferirla però a livello biologico c'è un motivo per cui ne abbiamo persi i peli e questo motivo riguarda anche l'appoggiamento ok ma attualmente parlando della depilazione che motivo biologico c'è nel senso che i peli sono una caratteristica che rimanda istintivamente a una caratteristica più maschile e per quale motivo perché sono prodotti dal testosterone che è un ormone maschile e per quale motivo la donna non dovrebbe essere bene guardate che Andrea non sta dicendo che le donne non possono avere i peli sta dicendo che la non abbiamo detto questo stiamo facendo un discorso sulla bellezza no 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 la tendenza generica considerare più bella Andrea posso parlare un secondo la tendenza generica Andrea diceva che la tendenza generica riconoscere più generica non assoluta riconoscere più bella una donna senza peli è dovuta a questo fatto istintivo di riconoscere i peli come una caratteristica più maschile cosa che vale solo per certe persone una maggioranza perché oggettivamente è una maggioranza ma solo per certe persone cioè Andrea non ha mai detto che in assoluto la donna senza peli è più bella no no c'è anche a chi piace perché con i peli è più maschile Andrea ha detto che siccome molte persone molte più persone preferiscono le donne senza peli Andrea spiega scientificamente questa cosa con questa ragione scientifica e noi abbiamo risposto con il fatto che questo gusto è influenzato anche in base a ciò che ci hanno sempre detto essere bello perché io potrei fare anche la domanda del diavolo sicuramente sicuramente era esattamente quello il mio punto anche l'iconografia con la quale siamo cresciuti anche sì è assolutamente anche quello cioè facendo l'avvocato del diavolo per quale motivo una femmina che ha delle caratteristiche più maschili dovrebbe essere ritenuta brutta cioè il ragionamento che fa Andrea ovvero i peli perché agli uomini piace la femminilità non tu ci piace la femminilità gli uomini omosessuali attratti da degli uomini da degli uomini prettamente marcolini agli uomini etero piace la femminilità ma non è vero che agli uomini etero piace la femminilità questo è un altro costrutto ma quanto ma non è un costrutto è una ragione c'è della biologia dietro non è ma quale biologia Andrea come sono nati i gusti secondo te perché anche gli antichi greci ma dal singolo soggetto e dall'educazione i gusti i gusti nascono anche ma c'erano anche i greci che avevano tutti gli addomini dei con gli addominali e i pettorali perché c'è un motivo non è che ma che cosa c'entra questo con il fatto a un uomo debba per forza piacere la femminilità ma non è che non debba per forza a me ne ha mai detto questo no ti può più io sono un prete ma a me piacciono le donne femmine quindi che abbiano una bella femminilità che significa donne femmine no no nel senso ti può anche piacere una scaricatrice di porto che rutta a mianto però in linea generica comunque la femminilità linea generica sottolineo linea generica la femminilità è una cosa che attrae gli uomini cioè siamo ragazzi ma siamo fatti così ci piace la femminuccia baby non puoi farci niente mi capisco però siamo fatti così quello che stiamo cercando di dire è che anche questi graffi si ritorna al discorso dei costrutti di genere che noi attribuiamo al maschio o alla femmina cioè sono anche delle cose che perché per forza non lo so devono stare in determinati ruoli perché un comportamento ritenuto più mascolino rispetto a un altro e perché soprattutto tutto questo dovrebbe togliere di bellezza vedete che si rientra sempre in dei modelli Pietro mi ha chiesto che cos'è un uomo e che cos'è una donna avete voi dato la definizione stereotipi su stereotipi non è un comportamento per dire agli uomini piacciono più in fil di guerra per una questione di come strutturati il loro cervello e anche per gli ormoni alle donne magari piaceranno non a tutte piacciono altre cose per come strutturata la loro mente siamo diversi ragazzi siamo diversi ma in realtà anche questo discorso della mente maschile diversa dalla mente femminile è secondo me assimilabile no secondo me insomma è prettamente assimilabile al fatto che c'è una neurodiversità che distingue ogni soggetto non ogni soggetto maschio da ogni soggetto femmina perché poi potremmo anche dire per esempio che Lady Ottavia mi ha fatto notare tantissime volte che il cervello di una ragazza trans è molto più simile al cervello di una ragazza cis come il cervello di un ragazzo trans è molto più simile al cervello di un ragazzo cis quindi anche dire alle persone in base a quello che hanno sotto i pantaloni hanno insomma dentro le mutande piace una cosa piuttosto che un'altra ma guarda che non è che se esiste una preferenza in quanto maschio questa cosa lede o mina l'esistenza ma bisogna vedere da dove viene e noi qui stiamo dicendo dalle mutazioni ragazzi ma come gli ormoni mi fanno più amare i film di guerra rispetto all'altro ma certo stai scherzando il testosterone rende più aggressivi più cattivi più maneschi ti fa amare di più le cose che possono risultare violente o di azione e c'è un motivo ragazzi se gli uomini in maggioranza guardano quei film e le donne ne guardano altri non è inventato ragazzi esiste però è sempre il modo in cui noi trasliamo quell'energia che noi possiamo tradurre come violenza in delle azioni concrete tipo la potenza che poi va a tradursi nell'atto cioè quel sentimento che ti causa il testosterone potrebbe essere che ne so utilizzato per creare qualsiasi altra cosa per scrivere una poesia per potrebbe il testosterone per scrivere una poesia no non credo che tu abbia capito quello che intendo nel momento in cui tu mi dici che il testosterone ti fa essere più violento ti fa essere più aggressivo ti fa essere tutte queste cose cioè il sentimento dell'aggressività il sentimento della violenza tutti i sentimenti che stanno negli esseri umani possono essere utilizzati per fare altre cose rispetto a ciò che ci aspetteremo che questi sono utilizzati cioè per cui questi sono utilizzati normalmente indiscutibilmente questo metto le mani e allora forse è anche molto il concetto che c'è alla base che ci si aspetta che un uomo debba guardare un film sulla guerra perché è uomo cioè io spido chiunque a immaginarsi una società e no aspetta tu stai facendo la furba io non ho detto che un uomo è obbligato altrimenti viene chiamato femminuccia un uomo può tranquillamente anche guardarsi un film romantico e va bene così io mi ne guardo ma infatti non ho detto questo ho detto che se gli uomini in maggioranza cioè fa intendere le mie parole vedono questi tipi di film non è per una ragione biologica visto che tutte le cose che ci riguardano la nostra neurodiversità che non dipende dal nostro essere maschio o femmine ma dipende dall'essere soggetti tutti diversi possono espletarsi in milioni di modi diversi ma se questi modi diversi trovano una traduzione trovano un'applicazione pratica sempre nelle solite topiche quindi sempre nell'uomo che deve non che deve vedere il film di guerra ma che prevalentemente guarderà più quello come prevalentemente la donna guarderà più il film romantico perché è stata educata a questo scusa Maria Sofia ogni nostra decisione deriva da un complesso meccanismo biochimico del cervello e questo meccanismo è alterato dagli ormoni alcuni ormoni ti fanno preferire determinate cose come i ragazzini adolescenti perché sono così maneschi perché sono ragazzini adolescenti pieni di testosterone non è un però l'atto dell'essere manesco aspetta posso farti una domanda scusami se ti interrompo ti faccio una domanda non voglio fare un'affermazione una domanda secondo te è vero che per esempio prendo come esempio il calcio non lo so il calcio maschile cioè il calcio secondo te è vero che è uno sport più damaschi domanda no ok secondo te è vero che magari nel calcio femminile vabbè niente andiamo andata posso guardare io ti dico il calcio non è uno sport più damaschi perché se prendi per esempio uno stato come gli Stati Uniti la percentuale di donne che giocano a calcio è molto più alta dei maschi per esempio per fare un'idea quindi ti rispondo io il calcio non è uno sport più damaschi più da femmine sto prendendo magari di una cazzata magari sto dicendo una cazzata ditemi subito sto dicendo una cazzata è vero che magari tipo non lo so io lo vedo in Italia è molto magari più probabile che una donna che giochi a calcio magari è più facile ritrovarla in un genere diverso stai dicendo quello che vuol dire lui quello che vuol dire Grimbaud te lo traduco io Maria Sofia quello che vuol dire Grimbaud è più probabile che una donna che giochi a calcio sia lesbica ma che cosa sembra il genere con l'orientamento sessuale io te l'ho tradotto io te l'ho tradotto ma è sempre perché noi attribuiamo all'essere donna o all'essere uomo un determinato tipo di comportamenti quindi ripeto per rispondere alla domanda di Pietro voi mi avete dato qui in questa live secondo queste assumption secondo questi pensieri insomma secondo la manifestazione di questi pensieri che cosa significa essere un uomo ed essere una donna ma ritornando al discorso degli ormoni che si faceva con Andrea è per questo il fatto che diciamo i cervelli sono tutti diversi cioè ma certo ma per carità ovvio il fatto che è tutto un processo biochimico eccetera eccetera ma come se io sono diversa da te e tu sei diverso da me e Don Ambroggio è diverso da me eccetera eccetera la dovremmo prendere come una verità che però non dipende dal nostro essere maschio o femmine perché in generale tutto l'equilibrio del cervello tutta la diversità è causata proprio dalla nostra diversità di per sé non è che siamo diversi perché siamo maschi biologicamente o femmine biologicamente siamo diversi con i individui certo siamo tutti diversi ma non è mai un fatto di capacità o di predisposizione o di essere inferiori no non l'ho detto no perché ovviamente diventa una cosa grave questa cosa che dici tu nel momento in cui una donna viene considerata meno adatta a qualcosa in quanto donna o meno predisposta a qualcosa in quanto donna diciamo che c'è una tendenza generale dovuta come dice Andrea giustamente perché è la pura sacrosanta verità anche a fattori biochimici a dividere le donne e i uomini su diverse passioni e attività ma non vale niente questa cosa non è una legge tutti sono liberi di fare quello che vogliono ma certo ma ci mancherebbe la carriera che vogliono tutti quanti hanno le stesse capacità le stesse la stessa possibilità di fare le stesse cose sì ma quello che dico io è che visto che si parla del cervello è anche un'altra generazione ulteriore andare a riassumere il cervello come un cervello maschile o un cervello femminile quando esistono no ma i cervelli si plasmano i cervelli si plasmano nei primi anni ah vedi che sei d'accordo con me esistono poi i cervelli ma hai detto sul fatto di ruoli uomo e donne per disposizione uomo e donne sono d'accordo con te non penso che ci siano cose più adatte a uomini più adatte a donne in nessun campo ma non ho mai detto neanche io ma anche Andrea ha detto che siccome non sempre è facile plasmare un cervello non sempre è facile sviluppare attività ma esistono proprio luoghi di ragionare diversi anche che dipendono da uomini e donne ti faccio un esempio per dire le donne hanno una visione periferica più ampia gli uomini hanno una visione migliore in linea retta perché anticamente gli uomini cacciavano e dovevano guardare dritti mentre invece le donne raccoglievano le bacche dovevano avere una visione migliore allo stesso modo le donne vedono i colori in maniera più nitida che è il motivo per cui le donne vedono mille colori l'uomo ne vede quattro allo stesso modo alle donne piace chiacchierare perché? perché nei campi si chiacchierava per parlare per capire quali erano i frutti migliori invece all'uomo perché piace più il silenzio perché si doveva stare a dire ma non è vero perché ci sono persone super taciturne che sono donne cioè ma poi sempre sono cose sono di nuovo stereotipi ma non vale per tutti ragazzi non vale per tutti ma no ma sei tu che generalizzi tu che alle donne piace più chiacchierare perché? ma non vale per tutti però esiste ragazzi scusami Andrea tu hai detto che la mia vita comunitaria è mediocre ma naturalmente per fiaschi è una generalizzazione pura abbiamo del pepe sono cose che potevano esistere e posso essere d'accordo con te ovviamente perché scienza milioni di anni fa ma adesso con l'evoluzione ci siamo evoluti anche noi sì ma rimangono comunque rimangono come si dice qualche istinto ancestrale legato a quella cosa lì poi è chiaro che esistono donne taciturne uomini che non sono zitti un attimo è ovvio naturalmente e ognuno può fare il cazzo che vuole però ci sono delle cose che rimandano non solo ormonali ma anche di evoluzione non ci siamo ancora liberati di quel ramo lì però tu mi parli di evoluzione senza contestualizzazione ogni caratteristica negli esseri umani cioè è come dire che tutti gli esseri umani sono uguali perché tutti gli esseri umani hanno delle braccia tutti gli esseri umani hanno delle gambe e comunque un corpo che noi diciamo attribuiamo a questa specie no intendo ogni cosa si può sviluppare in modo diverso ma proprio a livello sostanziale nel soggetto ma tu te la stai prendendo con Andrea che non è minimamente parte del problema cioè tu te la prendi con Andrea tu te la prendi molto con Andrea perché lo stai identificando come qualcuno che potrebbe dire una roba del tipo ah tu sei donna non sei adatta per questa cosa grazie Freud non ho mai detto una cosa del genere il problema è proprio grazie Freud come la senti questa tu ti sto dicendo che il problema è proprio chi si impone impone a delle donne delle decisioni o delle strade o comunque delle scelte o cerca di imporre alle donne delle decisioni delle strade delle scelte in base a queste caratteristiche Andrea non sta minimamente facendo questo mi sembra che stia dicendo che c'è una tendenza a scegliere o a appartenere a certi campi a certe carriere in base al sesso ma è una cosa che non preclude nessuno dal fare nulla e non mi ci vedo proprio Andrea o qualunque persona che la pensi come lui a dire una roba del tipo tu non puoi fare questo non sei adatta a questo il problema invece sono quelle persone cioè il problema della società è chi tratta usa queste ragioni biochimiche come una giustificazione per dire tu non puoi fare questo tu non sei adatta a fare questo tu non vai bene per questo invece analizzare il fatto che queste cose esistano perché esistono e perché gli istinti esistono non mi sembra nulla di male ok peccato che io non abbia mai contestato questo perché sono d'accordo anch'io che Andrea non ha mai cercato di imporre questa visione come una giustificazione del perché le donne non possono fare qualcosa gli uomini non possono farne un'altra in quanto tali il problema è che io sto proprio contestando le ragioni logiche dietro questo diciamo dietro le affermazioni che Andrea fa su delle basi scientifiche anche perché ci sono degli studi è vero guarda ci sono tanti documentari è una cosa di cui parlava anche lo stesso Nietzsche e il prospettivismo ci spiega come tutti i dati scientifici possano essere interpretati in base alle esigenze di un dibattito e che quindi non possano vabbè il prospettivismo in realtà parla di come tutto poi su grandi linee sia relativo però si potrebbe anche dire che se non ci sono prima delle diciamo ragioni logiche che provano una determinata cosa tu non puoi utilizzare il solo dato scientifico perché io lo potrei rigirare come voglio e per farlo quadrare nella mia tesi quindi no io stavo cercando di dire che i soggetti in generale lo hai ammesso pure tu visto che le menti si possono plasmare non è che sono tutti uguali noi esseri umani siamo tutti uguali perché abbiamo tutti un cervello tutti una bocca quindi facciamo tutti le stesse cose proprio perché abbiamo queste caratteristiche non ho mai detto questo io infatti ma mi sono mai questo è una cosa del genere infatti non ho detto che tu lo abbia detto stavo cercando di rispondere ad Andrea quando Andrea sosteneva che le donne fanno più questo perché nei campi eccetera eccetera sto cercando di dire che ogni singola cosa messa nel quadro del soggetto cambia significato in base alle altre cose che riguardano questo soggetto se io magari mi comporto in un certo modo e anche Charlie si comporta nel mio stesso modo queste azioni possono essere interpretate in una maniera completamente diversa perché siamo persone diverse perché in base proprio al nostro modo di essere queste azioni assumono un significato che è differente ma perché è proprio la psicologia che funziona così ecco perché sto dicendo che questa è una banalizzazione della mente umana tutto qui stiamo per chiudere ragazzi sì infatti anche io volevo dirvi che volevo uscire perché ho bisogno di chiudere mi sta morendo il telefono ci siamo persi in tanti discorsi infatti adesso chiudiamo magari gli ultimi 5 minuti poi chiudiamo perché comunque si è fatta anche una certa chiudiamo questo discorso posso dire una cosa sempre se non è troppo invasiva o altro io so che poi io e Andrea non siamo particolarmente d'accordo anche su altri argomenti tipo il veganismo per dirne una il veganismo essere vegani sarebbe figo parlarne un giorno certo che sono vegana ma ragazzo ma tutte le hai però diocchietta capito come ce l'ho tutta però attenzione la mia ragazza è vegetariana quindi ma guarda che in realtà io mangio anche vegetariano e quando preparo le robe per lei faccio tutto vegetariano ho fatto la lasagna vegetariana lo spezzatino vegetariano quando siamo andati al sana alla fiera di Bologna vegana ho mangiato più io che lei te lo dico quindi io non mi faccio più problemi no no era solo per dibattere sul tema magari con la versione per me per me chiamiamo anche Meo e lui è un vegano accanito ah voglia io e Meo chiamo molto amici certo Maria Sofia che squadra tifi eh io purtroppo sono ignorante non tipo alcuna squadra non c'è una che proprio anch'io tra Milan, Inter e Juve se dovessi scegliere ma per fare la tradizionalista papà è dell'Inter quindi Inter cazzo a me fa cagare il calcio quindi mi escludo ve lo dico già ma io seguo il competitivo Pokémon e basta madonna pure io ma tu lo sai che mi sono innamorata di Volo eh Wilder Volo di Pokémon Legend Arceus bellissimo ah il ragazzino anch'io io mi voglio scopare Zoroark lo conoscete? porco 2 è il mio Pokémon preferito lo stavo appunto dicendo da Andrea in chat la prima volta che ci siamo a parte che si dice porco Arceus siamo anche giusto rispettiamo no due no no non ho bestemmiato Dio ho detto due io ho detto porco Arceus non ho bestemmiato Dio no no perché io prima ho detto porco 2 pensavo si fosse scambiata per una bestemmia non era assolutamente ho detto due mi piace Zoroark o Maria Sofia? porco 2 sì e Gengar? Gengar è un po' mainstream Zoroark principalmente mi piace perché è il Pokémon D.N che secondo il mio modestissimo eh? D.N vabbè secondo il mio modestissimo parere è un grande personaggio ha reso la quinta generazione una delle migliori quindi bella trama bella caratterizzazione il suo Ace è appunto Zoroark quindi pure una questione di principio io sono la Basic Beach e il mio Pokémon preferito è Skindaquil grande però vabbè direi che possiamo chiudere con questo momento sì abbiamo fatto una certa bene signori è stato un piacere poi ripreplicheremo vegani eccetera così magari e direi che ci aggiorniamo alla prossima alla prossima aspetta aspetta la live è sempre di Granitale no no Granitale così dicono oggi è giù demorale ve lo dico cosa hai fatto dimmi patato che c'è saluto tutti io ma tu hai perso il controllo di questa live già da un'ora Granitale anche io ho paura di dire qualunque cosa perché è il mio canale quindi voglio lasciar parlare voi ma voglio salutarvi ma voglio chiedere a Mario Sorpresa poi ti resta un attimo che ti devo dire una cosa da sola un attimo cinque secondi grazie Pietro Storti saluta ciao ci vediamo presto grazie Andrea grazie Don Ambrogio grazie Jess grazie Charlie grazie Mario alla prossima ciao 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 allora un attimo ciao